Buonasera a tutte e a tutti, siamo in apertura del quarto focus organizzato dal Forum dell'Arte Contemporanea intitolato It's Art, una nuova Netflix della cultura. Due parole per dire come intendiamo le motivazioni che stanno alla base di questi focus che hanno una cadenza dimestrale e sono stati avviati sulla scorta dell'emergenza per andare ad attivare dei dibattiti in forma assembleare intorno a delle questioni importanti sia per delle comunità come quella che riuniamo oggi di operatori culturali che di territori specifici. Abbiamo fatto appunto tre focus e sono stati tutti abbastanza focalizzati intorno a dei temi come l'emergenza che era emersa dalla distruzione del teatro Icombetar Tirana, un focus legato alla problematica del Biennale e un focus sulle pratiche di resistenza. oggi ci ritroviamo a parlare di questa questione della piattaforma dedicata alla produzione culturale italiana voluta fortemente dal ministro Franceschini nel momento del scopo della pandemia e mi voglio riallacciare a uno dei punti che il forum ha trasmesso anche al ministero in occasione della chiusura dei lavori del forum di maggio in cui tra le varie proposte emerse e dobbiamo anche riconoscere che alcune di queste sono state accolte in particolare quelle legate al rinnovamento, alla riforma dell'Italian Council però c'è stato un silenzio di fatto da parte del ministero rispetto alle tante richieste che sono emerse a un documento che potrete trovare online molto articolato emerso dai lavori dei tavoli che avevamo riunito tra maggio, nello scorso maggio. In particolare oggi mi viene da ricordare uno dei punti che è quello sulla richiesta di poter parlare e discutere con il governo anche in vista dei fondi che arriveranno in maniera ingente dall'Europa per la definizione di un new deal culturale cosa di cui non si è mai discusso in questi mesi in particolare per il settore della cultura secondo il forum serve la creazione di una strategia sistemica del settore che coinvolga i diversi soggetti che vi operano favorendo una crescita organica di ciascun attore coinvolto a beneficio di tutto il settore culturale quindi un new deal che preveda interventi non solo nella cultura, nella sanità, nella socialità, la formazione, la ricerca e nell'ambiente come previsto peraltro dalla nostra Costituzione. Grazie Grazie al Forum Tutto per aver organizzato questo incontro che è la prima occasione in cui sono proprio i professionisti e le professioniste a parlare di una piattaforma che li chiama in causa direttamente ho preso un po' di appunti perché vorrei ricostruire le fasi che hanno portato alla costruzione dell'incontro per introdurre i tanti interventi che tra poco si succederanno allora è passato quasi un anno dal 23 febbraio del 2020 quando l'epidemia ha provocato le prime chiusure dei luoghi della cultura con conseguenze che l'intero comparto pagherà per anni di positivo c'è stata la presa di parola di tanti lavoratori e lavoratrici che per la prima volta si sono realmente organizzati in reti e associazioni per reclamare un sostegno da parte dello Stato e a quel punto in aprile però, solo in aprile, il ministro Adario Franceschini ha annunciato di voler reagire alla crisi creando una piattaforma per far conoscere sempre di più la cultura italiana all'estero va detto che già in passato c'erano stati degli esperimenti in questo senso con alcuni siti internet mai decollati però e che questa volta però si tratterebbe di qualcosa di diverso cioè di un sito sul modello di Netflix ossia a pagamento culturale e di intrattenimento quindi qualcosa di diverso per fare un esempio da Veribello che è quel sito fallito durante un precedente mandato di Franceschini e diverso anche dal portale Italia.it che volle Berlusconi Come realizzare la Netflix della cultura? Questa è la prima domanda che un'operazione di questo tipo pone il ministro inizialmente ha cercato una collaborazione con la RAI che però può offrire solo contenuti gratuiti e dopo alcuni mesi è stato trovato un accordo con Cili che è una piattaforma a pagamento che risulta in perdita e che vede la partecipazione con una propria quota di diversi soggetti tra cui colossi come 20th Century Fox, Warner Bros, Paramount e Sony Per questo non c'è stato nessun bando e non c'è stato nemmeno un confronto aperto che avremmo aspicato come professionisti del settore e quindi un'operazione che si possa dire trasparente In gennaio si è saputo che a fine dicembre era stata registrata una società per azioni chiamata Itzart e questa Itzart sarà realizzata in marzo da Cili la quale metterà circa 10 milioni insieme a Cassa Depositi e Prestiti che ne metterà altri tanti La Cassa, riporto la definizione che si trova nel sito è una società per azioni controllata dal Ministero dell'Economia delle Finanze che promuove la crescita del Paese e gestisce il risparmio postale La cifra di 20 milioni secondo molti professionisti è esigua servirebbero invece centinaia di milioni quindi un'altra domanda da porci potrebbe essere cosa vogliamo e che cosa possiamo realizzare con il capitale a disposizione e che cosa è necessario in particolare perché Itzart funzioni bene una volta che abbiamo stabilito che in qualche modo nascerà L'obiettivo della piattaforma è chiaro è permettere un pubblico molto più ampio di quello attuale a materiale video che ha avuto finora una circuitazione nazionale o locale ma sono molti gli interrogativi aperti dal momento che il Ministero non ha ancora comunicato le caratteristiche del progetto il business plan e gli eventuali esperti da coinvolgere sappiamo per quanto riguarda gli esperti che sono stati coinvolti dei consulenti e abbiamo anche provato a contattarli per l'incontro di oggi ma non sono autorizzati a parlare per Itzart né abbiamo notizia di bandi o selezioni che abbiano preceduto il loro coinvolgimento e quindi la scelta di far lavorare loro anziché altre persone e peggio ancora l'ufficio stampa non ha risposto a nessuna delle nostre email così come non ha risposto anche ad alcune testate giornalistiche che hanno cercato di contattare sempre l'ufficio stampa Provo a dare qualche spunto che immagino sarà raccolto da relatori e relatrici allora quali contenuti dovrà ospitare Itzart saranno contenuti già o resistenti che potranno essere rielaborati poco o niente ad esempio al montaggio e quindi semplicemente distribuiti a un pubblico più ampio oppure ci saranno anche contenuti inediti che dunque dovranno essere prodotti per l'occasione prendiamo il caso di un museo che finora non ha avuto le risorse o la possibilità di realizzare un documentario sulla sua collezione o su una mostra temporanea come si deve comportare chi deve essere coinvolto e retribuito per questo lavoro nel caso invece diverso di un film già realizzato o da realizzare la presenza sulla piattaforma determina l'esclusiva per Itzart e quindi impedisce la circolazione in altri circuiti e chi decide il produttore o il regista come sarà fatta la selezione i consulenti che a quanto pare sono stati chiamati senza una valutazione di candidature lavoreranno a progetto o a tempo pieno come sono stati scelti c'è il rischio che soggetti con minore potere contrattuale patiscano la probabile esclusione e si finisca così per celebrare il mainstream queste sono solo alcune domande che ho provato a mettere giù per introdurre sono sicura che ce ne saranno delle altre e come dicevo abbiamo naturalmente cercato di poter avere anche il ministero il suo staff tra gli ospiti ma con le consultazioni in corso non è stato possibile e quindi apriamo per il momento un confronto con alcuni dei professionisti che si troveranno a misurarsi con i Zart io passo quindi la parola a Lorenzo Balbi che introduce la prima sessione del dibattito grazie a Chiara Zanini grazie a tutti gli altri coordinatori e soprattutto non voglio rubare nessun minuto a questi panel voglio ringraziare solo a nome di tutto il forum dell'arte contemporanea tutti quelli che hanno dato la loro disponibilità per questa discussione che speriamo possa veramente segnare un po' un punto di partenza per questo progetto mi taccio subito dando la parola al primo intervento del panel numero uno che è di Romeo Castellucci che ringrazio per aver accettato il nostro invito Romeo Castellucci è artista uno dei più importanti registi teatrali internazionali fondatore della compagnia Societa Sraffaello Sanzio ringrazio personalmente per aver accettato questo invito e ti lascio la parola per dieci minuti hai ancora il microfono ecco, mi sentite? ti sentiamo benissimo allora ti ringrazio ti ringrazio tutti per aver organizzato questo forum i miei commenti saranno concisi rispetto a una propria domanda sono venute fuori sono già state anche enunciate ecco, quello che posso dire io di fronte a questo a ciò che si conosce di questa iniziativa ministeriale innanzitutto le notizie che abbiamo sono quanto mai farraginose la comunicazione è quanto meno laconica per non dire povera è poverissima di idee e quindi getta piuttosto nello sconcerto i protagonisti coinvolti in questa eventuale avventura ma vorrei dire dal mio punto di vista che c'è da parte ministeriale forse un fraintendimento completo rispetto alla specificità del linguaggio teatrale è proprio una contraddizione in termini fare teatro su uno schermo quindi noi sono naturalmente favorevolissimo alla documentazione del teatro su uno schermo questo è d'accordo lo faccio, continuo a farla ma questo non deve indurre una mente ministeriale ad essere convinto di aver risolto il problema perché il teatro è un'altra cosa il teatro è l'arte del contatto il teatro è uno spazio uno spazio ricavato nella città è un luogo parlo per me naturalmente parlo per il teatro poi ciascuno di voi dirà la sua ma insomma è un luogo in cui si fa comunità in cui le persone si incontrano e stanno davanti, mute davanti a un'immagine di questo c'è bisogno quindi è un'arte del contatto l'arte scenica è una sorta di avanzamento drammatico verso lo spettatore e con lo spettatore si può persino dire che lo spettacolo ogni sera viene formato dallo spettatore in presenza quindi direi che proprio non è questa la strada per salvare il teatro allora se ci sono queste briciole che il ministero vuole concedere questi soldi andrebbero secondo me investiti in un aiuto sostanziale alle nuove compagnie giovani compagnie per una giovane compagnia in Italia in questo momento non è possibile fondarsi non è possibile non ci sono i mezzi non ci sono le leggi non ci sono le modalità eccetera quindi io trovo che questa sia una cosa molto grave sono le giovani compagnie i giovani artisti sono completamente abbandonati non c'è nessuna dignità rispetto a questa arte e trovo che questo segno così di avere questa Netflix del teatro già è una parola che fa abbastanza ribrezzo la Netflix del teatro ma a parte questo non è una soluzione non è assolutamente una soluzione quindi trovo che questo sia un atteggiamento inutile anche perché uno spettacolo non viene confezionato una volta per tutte il ministero deve sapere cosa significa la vita di compagnia avere una compagnia teatrale significa lavorare tutti i giorni dell'anno e questo naturalmente non può essere risolto con la mandata in onda di uno spettacolo e gli altri giorni cosa succede? ecco quindi io mi fermo qui ci servono tante cose da dire ma appunto è meglio essere estremamente sintetici ma ecco per riassumere io trovo che sia una macroscopica un macroscopico malinteso tra intendimento della specificità del linguaggio scenico che è appunto un gesto di presenza di presenza reciproca mi fermo qui e lascio la parola a voi grazie bene riprendo la parola ringraziando Romeo Castellucci per questo primo intervento chiedendogli di rimanere con noi anche per le domande che seguiranno i primi interventi di questo panel grazie per la tua disponibilità e chiederei a Stefano Pasquini che ringrazio di mandare il contributo audio che abbiamo registrato da Francesco Vezzoli che è il secondo intervento per questo primo panel Francesco Vezzoli ci teneva a partecipare a questo forum ma purtroppo non poteva essere presente oggi in diretta per cui abbiamo registrato il tuo contributo audio e qualche giorno fa e lo manderemo adesso appunto per continuare questo dibattito non credo Francesco Vezzoli abbia bisogno di molte introduzioni uno degli artisti italiani più conosciuti a livello internazionale e che abbiamo anche interpellato in quanto spesso tra i suoi media utilizza anche la videoarte Bene, siamo in registrazione Ecco, partiamo Buongiorno, bene siamo con Francesco Vezzoli che ringrazio molto per aver accettato questo focus su questa Netflix della cultura questa nuova piattaforma lanciata per volontà del ministero del ministro Franceschini che sta un po' occupando diciamo il dibattito degli addetti ai lavori e volevamo anche la voce autorevole di un artista di fama internazionale come Francesco Vezzoli chiederti prima battuta cosa ne pensi qual è un po' la tua posizione nei confronti di questo progetto e eventualmente che tipo di contenuti o che tipo di adeguamenti diciamo anche alla produzione artistica potrebbero essere fatti per rispondere a queste nuove esigenze allora io innanzitutto grazie per l'invito cercherò di essere filologico concettualmente quindi se il punto è Netflix parto dalla campagna pubblicitaria di Netflix che recita una frase che a me piace molto che dice in Italia le grandi storie esistono già basta solo raccontarle e Netflix lo sta facendo anche con grande successo vedi ad esempio il caso di San Patrignano eccetera eccetera allora ci troviamo solo di fronte secondo me a un grande equivoco l'equivoco è questo cioè che se noi vogliamo fare una Netflix dell'arte o del teatro o del balletto dobbiamo procedere con diciamo lo stesso cinismo la stessa durezza la stessa chirurgicità con la quale Netflix che è un colosso come dire che ha quelle come dire quelle dinamiche che sicuramente si avvicinano più a Google Facebook Twitter eccetera eccetera che alla barilla e dobbiamo applicarle in qualche modo al nostro modo di fare cultura quindi non è un discorso così semplice cioè lo slogan di fare una Netflix dell'arte se è uno slogan solo come dire per invitare gli operatori del mondo culturale a attivarsi sul digitale è uno slogan come un altro e se ne potevano fare diversi e andavano tutti bene viceversa io come dire raccolgo la provocazione posto che sia una provocazione però allora alzo la posta e dico vogliamo fare una Netflix dell'arte benissimo allora ci vogliono mezzi determinazione e lucidità e ancora prima che tutte queste cose una grande onestà un'analisi e qui io parlo solo e esclusivamente per il mondo dell'arte perché non mi permetterei mai di parlare né di cinema né di teatro né di balletto che sono campi che apprezzo ma che non studio e dei quali non faccio parte quindi se noi cioè quello che noi il processo che noi dobbiamo mettere in atto è un processo del quale c'era bisogno anche pre pandemia dobbiamo prendere il mondo dell'arte contemporanea e antica in Italia e confrontarlo su come viene fatto funzionare nelle altre nazioni del mondo fatto a questo tipo di studio di analisi di operazione poi possiamo decidere come quando e perché trasferire tutto questo dentro una dinamica digitale mi sono spiegato assolutamente sì questo è un po' il punto proprio perché abbiamo l'occasione di parlare con te che ti occupi con le tue opere anche di un certo tipo di fruizione del contenuto è importante dire probabilmente anche che il tipo di contesto non è non è del tutto possibile essere lasciato al caso insomma il contesto espositivo ha una una forza e una necessità un'urgenza determinante nella costituzione di un'opera quindi che tipo di contenuti potrebbero essere caricati su questa Netflix della cultura se non dei contenuti prodotti apposta per essere caricati su questa Netflix della cultura ma secondo me il problema anche se ovviamente è una cosa che non dovrebbe uscire dalla bocca di un artista è un problema di natura neanche politica ma proprio di natura quasi come dire morale insomma diciamo che le persone che detengono un potere politico devono mettere in atto una sana dinamica ricattatoria nei confronti delle poche persone alle quali in Italia è rimasto del denaro e imporre a queste persone se lo Stato non ha questo denaro di metterlo dentro progetti culturali una volta che c'è questo denaro devono essere attivati dei meccanismi che sono appunto alla pari con l'aggressività dei meccanismi delle altre istituzioni io ho vissuto per anni ho striato in Inghilterra ho vissuto in America sia sulla East Coast che sulla West Coast il tipo di aggressività di durezza delle campagne di raccoglimento di fondi che le istituzioni mettono sistematicamente in atto in queste nazioni alle quali noi guardiamo sempre con ammirazione sono molto molto aggressivi violenti a volte scorretti a volte pur un po' corrotti diciamo quindi innanzitutto prima ancora di parlare di digitalizzazione dobbiamo parlare di un problema etico come ci poniamo cioè noi per mettere in atto un'operazione digitale all'altezza dei costi della digitalizzazione globale dobbiamo avere i fondi ma per avere questi fondi non possiamo toglierli agli ospedali durante una pandemia quindi dobbiamo avere una volontà anche di privati che si uniscono ai pubblici e che decidono di mettere fondi dentro però operazioni che sono che sono molto costose e che devono essere anche piuttosto aggressive altrimenti si risolvono e arrivo a rispondere alla tua domanda nel mettere dei contenuti dentro delle piattaforme ma se poi questi contenuti non vengono adeguatamente pubblicizzati e promozionati rischiano di essere un flop e qui nuovamente mi riallaccio provocatoriamente al discorso Netflix cosa ha fatto Netflix con la fiction San Patrignano ha pagato profumatamente tutto il materiale d'archivio dalle techerai tanto è vero che alcuni politici sono insorti hanno detto il documentario su San Patrignano che è un grandissimo successo e che lo sarà anche all'estero perché molti media stranieri ne stanno parlando avrebbe dovuto essere stato pronto dalla televisione di stato qualcuno ha intelligentemente disposto no la televisione di stato ha preso tantissimi soldi per i materiali delle techerai si presume e sicuramente perché quelli sono i prezzi pubblicitari sta prendendo tantissimo denaro per tutti gli spot che Netflix compra per pubblicizzare San Patrignano quindi se parla Netflix dell'arte vuol dire operare con l'aggressività della vera Netflix per me va bene però gli operatori dell'arte sono pronti a questo tipo di aggressività la ritengono eticamente plausibile questa è la mia controdomanda grazie grazie davvero Francesco Vezzoli per questa riflessione molto puntuale e per averci portato il tuo punto di vista su questa nuova piattaforma grazie Francesco grazie buon lavoro scusate sono stato un po' duro ciao grazie penso sì penso che sta a me sì buonasera a tutti e un buon pomeriggio sono Adriana Polveroni sono tra i coordinatori di questo focus che ci auguriamo già con questi primi due impulsi mi sembra molto così ben indirizzato e direi che la persona che ora io introduco cioè Umberto Croppi che attualmente è presidente di di quadriennale è presidente di FederCulture ma che è stato scusa direttore ma che è stato assessore alla cultura a Roma e io in quanto romana ve lo ricordo molto bene è stato uno dei nostri assessori più apprezzati è comunque persona molto vicina al mondo dell'arte della cultura cioè seriamente vicina mi permetto di dire ecco le ultime sollecitazioni di Bezzoli mi sembra che ti introducano molto bene in qualche modo è anche Bezzoli chiama in causa non tanto i politici ma diciamo una visione politica giusto di questa eventuale Netflix della cultura dunque a te la parola sì allora io intanto vi ringrazio vi do un annuncio che con FederCulture stiamo organizzando per il prossimo venerdì 19 un incontro proprio su questo stesso tema con un confronto diretto con gli esponenti della società neocostituita e quindi molte delle domande che voi vi state ponendo e che tutti noi ci stiamo ponendo in quel caso avremo modo di porle direttamente a chi se ne sta occupando io proprio partendo dall'intervento di Bezzoli debbo aggiungere qualche informazione rispetto alla vacuità delle notizie che si hanno intanto ahimè non è una provocazione e non è nemmeno una eventualità Adriana è un fatto cioè la società è costituita ha il suo organigramma il suo organico stanno lavorando e la deadline è il 28 di febbraio cioè il lancio della piattaforma è previsto fra 20 giorni io cercherò in questo mio breve intervento di non esprimere giudizi non è diciamo non mi è molto consentito il mio doppio ruolo in cui sono stato presentato quindi cercherò più di dare delle informazioni oppure dei giudizi in forma di informazioni il è stato rilevato come la esiguità dell'investimento che consiste sostanzialmente nell'avere acquistato per 10 milioni una piattaforma televisiva a pagamento già esistente e come è stato detto un forte deficit con l'aggiunta di 10 milioni da parte del ministero e 10 da parte di Cassa Depositi e Prestiti quindi diciamo il valore complessivo dell'operazione è di 30 milioni Netflix quando nacque ne investì 6 miliardi lo stato dei lavori è molto avanzato quindi ripeto non si tratta di una cosa in fieri tanto che la società Itzart sorvolo anche sui giudizi sul nome e sulla grafica del logo sta già sottoponendo individualmente cioè senza aver fatto un confronto complessivo a singole aziende di produzione artistica o musei il contratto quindi non siamo più nel campo delle ipotesi quello su cui bisognerebbe ragionare avendo elementi è cosa effettivamente sta succedendo e l'altro aspetto quello veramente importante è che Itzart è una piattaforma di distribuzione punto nessuno in nessuna sede in nessun momento ha mai pensato alla cosa essenziale alla produzione perché l'investimento sia pure solo sulla piattaforma di produzione meriterebbe altro tipo di dimensioni ma la questione vera è che il prodotto da vendere non c'è e nessuno ha nemmeno immaginato di predisporre degli strumenti di supporto o un trasferimento di know-how un affiancamento delle aziende per produrre è stato giustamente detto prima parlando del teatro è impensabile mettere su una piattaforma a pagamento dei prodotti concepiti per essere fruiti in altro modo la Netflix è quella vera che per la produzione spende 12 miliardi ogni anno crea dei prodotti destinati a quel tipo di piattaforma è un linguaggio completamente diverso rispetto a quello del prodotto tradizionale anche rimanendo nel campo dell'audiovisivo e del film la serie o il film prodotto da Netflix da Prime e dagli altri operatori è una cosa completamente diversa rispetto a quello pensato per la sala cinematografica o addirittura per lo schermo televisivo e la frizione di Netflix avviene sull'iPhone è una forma narrativa che non ha nulla a che vedere con quelle tradizionali figuriamoci la trasposizione pure semplice di una mostra d'arte di un museo archeologico di una pièce teatrale di un concerto cose oltretutto che abbiamo già praticamente tutte già a disposizione gratuitamente chiudo facendo insomma io ho cercato di darvi le due tre informazioni di cui sono in possesso e che sono la base di ogni ragionamento chiudo sulla questione che dicevo dei linguaggi e della capacità delle piattaforme di proporre nuovi prodotti con un esempio tra i tanti che si possono fare ma io questo lo trovo particolarmente clamoroso una nota piattaforma di giochi online fortnite ha capito che è basata io immagino che molti di voi la conosciate per lo meno chi ha figli adolescenti come me che è basata su una forma tipo second life cioè è un'isola su cui si svolgono queste azioni di gioco attraverso degli avatar ha prodotto due mesi fa un concerto cioè quindi ha cominciato a differenziare utilizzando però una linguaggio e una piattaforma ormai consolidati ha prodotto un concerto a pagamento a cui hanno assistito 12 milioni di avatar a pagamento cioè la la rete offre queste possibilità ma a patto che si parli il linguaggio adatto a chi la utilizza bene grazie Umberto Croppi certo il problema in fondo questo è il primo problema che ci siamo posti noi c'è una del denaro che va alla distribuzione piuttosto che alla produzione di cui oggi specie oggi c'è un grande bisogno io ora introduco introduco il nostro terzo anzi quarto ospite con grande piacere introduco Virgilio Sieni Virgilio Sieni penso non abbia nessun bisogno di presentazione in quanto è oggi il danzatore più più conosciuto in Italia più apprezzato più conosciuto in Italia e anche all'estero ma oltre la sua figura il suo lavoro che ha incrociato incrocia anche proprio un po' le arti performative in qualche modo con questa poetica questa sottolineatura del gesto è anche fondatore della compagnia Virgilio Sieni è stato direttore della Biennale Danza nel 2013 nel 2003 se non mi sbaglio ha fondato Cango a Firenze insomma veramente un curriculum ricchissimo e quindi ci aspettiamo da Virgilio una posizione forse non altrettanto ricca ma insomma sicuramente consistente a te la parola grazie bene mi sentite? sì allora saluti a tutti vedo tanti volti amici e quindi sono felice se non altro di di osservarli dunque che dire oltre che appunto lo sconcerto di a volte di subire delle scelte delle scelte già fatte insomma perché poi ci ritroveremo questa cosa penso che bella confezionata mi sembra che principalmente si aggiunga psicosi a psicosi e si lavori proprio per riempire maggiormente gli ospedali insomma le forme ovviamente io parlo per quanto riguarda tutto quello che è la dimensione del lavoro teatrale così via in danza in presenza ovviamente non è un escamotaggio un dispositivo che abbiamo inventato noi negli ultimi negli ultimi dieci anni insomma un qualcosa ovviamente che fa parte di un processo che ha preservato la specie che ha fatto sì che ce l'abbiamo fatta in confronto alle altre siamo solo siamo solo in presenza di un qualcosa che ovviamente dovrebbe far ragionare sul fatto che stiamo perdendo tutte quelle che sono le qualità legate a un concetto anche di spazio tattile mi sembra che si faccia lo stesso processo che ha subito ovviamente la urbanizzazione negli ultimi cento anni cioè a dire tutto il discorso del vicinato tutta l'elaborazione molecolare di quello che è un passaggio estremamente sofisticato dovuto a elementi di conoscenza ovviamente linguistica eccetera viene immediatamente viene immediatamente affogato secondo una dimensione insostenibile da quello che è stato a suo tempo che so la costruzione di un centro commerciale ai bordi di un paesino con cento piccoli negozi senza farsi nessun'altra domanda questo l'abbiamo ritenuto estremamente utile e però tutto questo ovviamente ha portato a delle conseguenze notevolissime non ultima quella appunto di creare delle forme appunto di disagio dunque psicotiche come stiamo vedendo in questo periodo non ci domandiamo mai ha chiuso i teatri come sapete benissimo ma il problema principale è che sta creando tutta una dimensione legata a una nostra percezione del mondo molto complessa insomma quelli che lavorano di più adesso sono gli psichiatri gli psicologi ovviamente tutte persone che hanno la necessità di accogliere le debolezze detto questo ovviamente dato per scontato che una piattaforma del genere non serve ovviamente al teatro alla danza perché ovviamente se produciamo degli spettacoli non sono predisposti per essere buttati lì e semplicemente osservati è una cosa assolutamente inutile che va a creare anzi una insostenibilità di quello che facciamo anche perché come ha ben spiegato Romeo prendiamo tutti gli elementi legati a un concetto di tattilità a un concetto di spazio tattile a un concetto di vicinanza a un lavoro di vicinato che è trasmissibile attivarso la dimensione come non lo dico io lo diceva Benjamin la dimensione dell'aura la capacità di sognare ecco un progetto che non ha capacità di sognare cioè togliendo questo aspetto legato alla presenza evidentemente per quanto ci riguarda è pressoché inutile anzi direi che è estremamente dannoso se venisse sviluppata la tecnica di riprodurre gli spettacoli semplicemente registrandoli in diretta tutto un altro discorso ovviamente quando si entra quindi non serve da questo punto di vista servirebbe invece riflettere su un concetto di produzione servirebbe ovviamente alimentare tutto quello che è un discorso legato al linguaggio al linguaggio non tanto linguaggio di producibile del teatro quando ha un linguaggio ovviamente artistico dell'uomo legato al teatro legato alla danza ma tutto questo è un contesto ovviamente come vedete bene già la storia del cinema e la storia del documentario hanno elaborato nel corso degli anni quindi si entra più che altro in un discorso in un concetto di produzione sono questi pochi soldi dedicati appunto ad una piattaforma appunto come è stato ben spiegato che ne avrebbe bisogno di molti altri e dunque quando ancora ovviamente sul nostro territorio nazionale sono assenti tutte quelle strategie necessarie affinché invece si continuino a sviluppare si continua a sviluppare un lavoro invece territoriale più appropriato il sostegno alla crescita di nuovi luoghi sostegno ovviamente a tutta quella che è la dimensione dei giovani artisti cioè in un disegno condiviso e che adesso insomma è estremamente mancante nascono teatri nazionali i centri di produzione come siamo noi però non vengono ovviamente sostenuti vengono solo sostenuti per quanto riguarda un discorso di ospitalità to cure mentre dovrebbero anzi prendere guadagnarsi l'orizzonte di creare appunto di tessere anche un discorso legato ai territori cose che tante ovviamente contesti già stanno facendo quindi una Netflix ovviamente a noi non serve servirebbe comunque un bel discorso legato alla dimensione online che è quello che ci metterebbe anche in forma produttiva in dialogo con altri contesti con altri contesti artistici servirebbe anche per narrare tutto quello che è a volte il lavoro ombroso legato a dei processi creativi che nel momento in cui io coinvolgo persone su 45 territori a livello nazionale è chiaro che avere un qualcosa che ci unisce in una dimensione anche artistica da questo punto di vista sarebbe estremamente conveniente ma nuovamente si rientra in un discorso produttivo più che di riproducibilità più che di riproducibilità di uno spettacolo semplicemente da riprendere e da buttare lì per cui ecco io lascio il tempo ora lascio lo spazio agli altri grazie Virgilio Sieni mi sembra importante sottolineare di questi tempi la territorialità e al tempo stesso anche una una ulteriore sottolineatura dell'online dunque questo doppio registro e sempre tenendo presente poi appunto un obiettivo di produzione che significa poi sostegno attivo significa sostegno come avete detto come hai detto tu e Romeo Castellucci sostegno ai giovani artisti ai giovani coreografi danzatori a chi fa teatro eccetera allora noi abbiamo terminato questo primo questa prima parte la prima sessione dei nostri del focus ora volendo abbiamo tempo una decina di minuti circa quindi sulle 18 per delle domande che però per farle se ce ne sono bisogna iscriversi nella chat la chat la trovate sotto la schermata io non ho controllato non so se ci sono delle domande anche fatte ci sono sì ci sono per ora è iscritto Peter buonasera io sono Maria Giovanna Mancini buonasera a tutti Peter chiede ancora un minuto quindi possiamo passare a Mauro Di Francesco che è iscritto a parlare dopo Peter Mauro c'è buonasera a tutti buonasera buonasera chiedo agli interventi esterni di mantenersi su un minuto due minuti in modo da dare la parola a tutti prego va bene molto rapidamente io mi collego anche a quello che ha detto Vezzoli che chiaramente è stato molto molto importante per rompere il ghiaccio sì un'aggressività trovare contenuti non so fare una lettura dei quotidiani quello che succede nell'arte in Italia la piattaforma può funzionare sicuramente all'inizio come faceva Netflix con dei costi molto molto aggressivi regalando gli abbonamenti gli abbonamenti trovare dei contenuti professionalizzanti nel senso che la comunità del contemporaneo ad esempio non è molto grande perciò è interessata dei contenuti come le grandi mostre le fiere il mercato tutto quello che riguarda la vita quotidiana cioè qualcosa di professionalizzante durante la giornata per gli artisti ad esempio delle indicazioni delle cose contenuti che a mio parere non è che siano i mezzi di una fiction chi si ricorda non so le trasmissioni qualche anno fa della Rai Passpartout basta un bravo autore un cameraman e delle idee chiare penso di essere stato in un minuto e vi saluto grazie Maria Giovanna vado allora abbiamo Eleonora Rodolo no in verità abbiamo Peter prima prego scusate io avrei un paio di considerazioni un paio di domande vediamo quello che riesco a fare nel caso ditemi di fermarmi allora la prima considerazione che volevo fare era sia ricollegandomi a Virgilio Sieni che a Castellucci è una problematica secondo me legata alla misconception del termine Netflix che è stato usato nel senso che la problematica che riscontro io dall'intervento di Castellucci e di Sieni è che appunto sia stato interpretato il termine Netflix come esattamente è ovvero Netflix non è altro che un'azienda è fondamentalmente una multinazionale che produce investe dei soldi per dei contenuti online e va a guadagnare da quello e si ferma lì mentre quello che ci si auspicherebbe da ITSART secondo me da esterno e quello che dovrebbero auspicarsi anche gli stessi sostenitori creatori eccetera di ITSART e gli operatori del settore in generale del mondo della cultura non è un prodotto in stile Netflix ovvero piattaforma che crea contenuti da visualizzare solo online e guadagna da quello ma come un mezzo di promozione per il mondo fisico della cultura perché ovviamente nessuna forma d'arte vale vale allo stesso modo presa online che sia uno spettacolo teatrale che sia una scultura di Kunz siamo sempre alla stessa questione nessun tipo di arte escluso proprio tangenzialmente il cinema ma anche lì avremo delle questioni da approfondire è la stessa cosa percepita online e quindi non dovremmo intendere non dovrebbe essere strutturato It's Art come un Netflix ovvero una piattaforma che crea contenuti online e ci guadagna da quello e lì finisce la questione ma come un grandissimo mezzo di promozione della scena fisica culturale italiana che siano gli uffizi che sia il piccolo teatro di Milano andrebbe secondo me intesa a priori in quel senso e da lì poi vorrei ricollegarmi con un'altra domanda ovvero cioè sono una considerazione una domanda tangenziale a questo ovvero è peggio mi chiederai di essere sintetico perché le due questioni velocissime sono partiamo dall'ideale presupposto che It's Art non sia un Netflix ma un grossissimo mezzo di promozione per la scena culturale italiana stiamo dando in mano questo grossissimo mezzo di promozione a Cili che abbiamo ormai compreso non essere sufficientemente in grado per realizzare un prodotto del genere perché non lo è stato in grado prima con scarsissimi fondi e l'altra questione è qualora si riuscisse ad andare in porto con questo mezzo grandissimo di promozione nel momento in cui arriva la massa critica dall'estero o anche dall'Italia stessa nei musei nei teatri nei cinema eccetera le nostre infrastrutture sono in grado di reggere questa grossissima massa che è arrivata dalla moda e dal mezzo di promozione mi fermo qua scusate Maria Giovanna Mancini ancora notta eccomi grazie Peter e dopo chiederemo ai relatori a Romeo Castelluccio a Virgilio Sieni di rispondere alle domande alla domanda di Peter e alle altre domande e ora do la parola a Pietro Gagliano che è iscritto prego buonasera a tutti cercherò di essere veramente breve a me sembra che la distorsione iniziale sia proprio sul tipo di soluzione che dal ministero è stata cercata e alla cultura la produzione culturale italiana non è mai servita e meno che mai serve oggi una piattaforma di promozione e di diffusione un po' come quando anche a Firenza e me si sente dire che abbiamo bisogno di un aeroporto più grande per accogliere più turisti che la città assolutamente non riesce a metabolizzare e che la cui presenza massiva produce crisi su qualsiasi su qualsiasi settore e quello che la cultura italiana ha bisogno è di sostegno produttivo parlava prima a Virgilio Sieni ma si possono nominare veramente decine di casi virtuosi di artisti registi direttori di musei operatori culturali curatori che hanno portato che con enormi sforzi e con sostegni a volte pubblici anche anche sostanziosi sono riusciti a portare la produzione culturale fuori da quelli che chiamiamo i fortini dell'arte della dai musei dai centri dove un pubblico ristretto diciamo predeterminato può normalmente fruirgli questa è la direzione che va perseguita sostenere il lavoro di artisti giovani o di qualsiasi generazione di produttori culturali e contestualmente con un sostegno ad azioni mirate che vadano fuori che riguardino l'educazione la pedagogia dell'arte la coproduzione pratiche basate nella comunità pratiche di condivisione di partecipazione anche diffondere ma non certo presso presso il turismo presso un turismo o un'utenza diciamo mediatica di massa come quella che è collegata al modello Netflix fine grazie Pietro grazie di aver anche nominato in musei la dimensione espositiva che sarà rappresentata dopo nella seconda sessione lascio la parola ad Eleonora Ruotolo prego grazie io faccio due domande concite e una piccola considerazione vorrevo sapere se era già stato dichiarato il costo mensile che avrà questa piattaforma per l'abbonamento e quali musei sono stati messi sotto contratto e la mia considerazione è una considerazione un po' analoga a quello che è stato non voglio dire criticato ma è effettivamente criticato perché è impensabile considerare una piattaforma di questa portata senza una debita produzione anche io sono d'accordo sul fatto che non si possono mettere contenuti creati non dedicati a questo scopo su una piattaforma e pensare di avere successo ma forse grazie leonora scusa lascio la parola scusa scusa Maria Giovanna forse forse Umberto Croppi ci può dire se si sa qualcosa in più rispetto a un eventuale costo eh sì sì infatti ecco io intanto volevo ribadire che l'oggetto di cui parliamo è un oggetto che già esiste a una sua forma e non è destinato alla promozione è semplicemente una piattaforma di distribuzione per la vendita di prodotti eh il che dovrebbe funzionare per quanto è a mia conoscenza io ho avuto modo di vedere pure una proposta di contratto rispetto ai qua alla quale le aziende interpellate sono in grosso imbarazzo perché prevede che un museo un teatro fornisca eh una propria produzione quindi con costi da sostenere da parte di chi produce e viene messa in vendita eh a on demand quindi non c'è un per quello che io ho capito non c'è un abbonamento ma si vende a click e il lente produttore riceverà eh il corrispettivo della della vendita duecentodieci giorni dopo eh il la il 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 click avvenuto quindi c'è eh la richiesta di un investimento senza nessun supporto economico culturale eh nessuna strategia di marketing indicata eccetera eh quindi una richiesta di investimento con dei ipotetici ehm ritorni eh a duecentodieci giorni di dal momento in cui viene messa in cui viene premuto il click in cui viene vista non nemmeno da quando viene messa online queste sono le informazioni che io ho al momento comunque sicuramente ecco in termini di volontà diciamo politica di chi ha concepito questa cosa eh non eh si tratta di uno strumento di promozione ma uno strumento di vendita aggiungo l'ultima considerazione che se mai fosse veramente mh in grado questo strumento di far vendere dei prodotti tal quale a quelli che sono fruibili eh fisicamente altro che promozione diventa si sa per ammazzarle definitivamente perché se eh sappiamo che non sarà così e che quindi questo è uno dei rischi di fallimento del del progetto ma se invece il progetto funzionasse significa che io posso fruire del prodotto stando meno a casa e quindi non vado più a teatro non vado più al museo certo grazie Umberto credo che la risposta che ha dato Umberto Croppi in parte risponde anche alle considerazioni e alle perplessità che sul tre commenti di Facebook esponeva Costanza Meli che appunto si chiedeva chi è che selezionerà quali sono gli obiettivi e un altro c'è un altro intervento l'ultimo intervento di Riccardo Lisi prego Riccardo Lisi non c'è non c'è e quindi chiederei di ai relatori della discussione se vogliono rispondere alle varie domande che sono state beh allora io posso solo dire che sono in realtà non sono domande quelle di di Peter e di Pietro non sono domande ma sono azioni che mi trovano totalmente d'accordo insomma quindi rispetto anche alle inquietudini che abbiamo sentito dire insomma sono cose che condivido completamente poi appunto non si capisce chi dovrebbe fare questa scelta e tutti gli scusi cosa succede con gli esclusi con le piccole compagnie che magari non hanno i mezzi per produrre una cosa all'altezza tra virgolette di un medio del genere e non si sa bene come c'è anche questo questo invito che io trovo molto umiliante appunto si dice di inviare una e-mail per sottoporre il proprio lavoro a chi chi dovrebbe giudicare inviare una e-mail lo trovo molto degradante soprattutto per coloro che hanno bisogno di dimostrare il proprio lavoro per la prima volta questa è la mia mia pensione forse salve buonasera mi sentite grazie grazie innanzitutto vorrei ringraziarvi per la per la riflessione sull'argomento mi ha dato da pensare che in molti paesi non riflettano all'estero in Europa non riflettano neanche sul sul tema quindi della transizione nel teatro digitale e la mia domanda è come è possibile fermare tutto questo c'è un modo per boicottare se la comunità di artisti fare resistenza insomma a questa cosa che viene o verrà imposta e anche allo spreco probabilmente di denaro a cui andremo incontro grazie Virgilio vuole rispondere lei a questa sollecitazione sulla resistenza questa felice domanda dunque beh forme di resistenza ovviamente questo sempre questo evidentemente sempre nel momento in cui fa molto comodo ovviamente alla politica parlare di cittadinanza di cittadino di partecipazione comunque sia poi molto spesso vengono sempre stromessi nel momento cruciale viene sempre stromessa la parte sociale civile che invece dovrebbe interloquire fino alla fine del progetto sì ovviamente le forme di resistenza devono appartenerci nella pratica quotidiana nella pratica quotidiana per non entrare in questa dimensione che mi sembra sempre più giocata sul cittadino consumatore molto giocata sul cittadino molto concentrata su un concetto di cittadino consumatore e non tanto di produzione artistica o tutto quello che potrebbe essere invece una dimensione arricchente per quanto riguarda tutto il nostro contesto e quindi anche un problema molto molto grosso legato all'appiattimento e all'omologazione di formati come se tutti ci va bene entrare in una dimensione del genere per essere visti assolutamente no cioè è giusto mantenere invece molto fertile molto sorgiva la differenziazione perché è necessario mantenere anche il distacco da certe cose quindi questo è un'altra sembra che ora uscendo questa novità non vedo un grande avvenire comunque tutti dobbiamo come un po' omologarci o arrabattarci per partecipare ad un qualcosa ad una processione che non è giusto esserci sopra ma è giusto comunque parlarne essere molto presenti capire in quale maniera invece con quale strategia riusciamo ad operare in una forma diversa questo sì assolutamente sì ecco voglio aggiungere una cosa anche io rispetto a quanto dice Sara per esempio io non credo che parteciperò mai a questa piattaforma proprio ritengo una umiliazione quindi per me proprio non è possibile neppure avvicinarmi col pensiero a un'idea talmente abberrante quindi da parte mia non c'è nessun dialogo quindi con questa piattaforma poi gestita da questi privati non si capisce neanche chi sono e che qualità intellettuali hanno comunque per quanto mi riguarda è un canale che non si è mai aperto quindi non lo chiamo boicottaggio perché poi io credo nello Stato non sono un anarchico ma proprio perché credo nello Stato e non crede non credo non posso credere a questa semplificazione imbarazzante ecco vorrei aggiungere una cosa qua se non ci sono degli altri interventi passiamo alla seconda fase che effettivamente il rischio grosso ora che è uscito anche mi pare da le osservazioni di chi ha partecipato di chi ha posto le domande è che veramente ci sia poi un'esclusione delle piccole realtà cioè questa Netflix dell'arte probabilmente semmai semmai partirà semmai riuscirà insomma a mettere in piedi qualcosa però ovviamente sarà una una piattaforma di distribuzione solo dei grandi eventi delle grandi compagnie insomma di qualcosa che ha molto le spalle molto solide e questo è un altro problema molto serio molto grave perché veramente taglia fuori una fetta consistente significativa magari quella che fa appunto più ricerca completamente elusa insomma semmai poi dovesse funzionare allora ci sono altri interventi abbiamo due altri commenti su Facebook chi li legge Maria Giovanna o Anna io non ho Facebook eccomi i commenti su Facebook di Maria Giovanna intanto che lo trovi mi sembra interessante leggere quello che è arrivato in chat cioè due commenti che sono arrivati in chat per recuperare anche la domanda di Riccardo Livi un commento che diceva un partecipante anonimo questa cosa è una boiata che i burocrati hanno partorito dal basso della loro ignoranza e incompetenza la ragione Sara andrebbe bloccata o boicottata al ministero dovrebbero capire che se quando si parla di virus chiamano un comitato di virologi quando si parla di arti si consultano gli operatori culturali invece la domanda che magari potremmo girare subito a Umberto Croppi di Riccardo Lisi è stata scritta in chat ed è mi sembra che un punto che unisce il progetto sia l'italofonia dei materiali è interessante che vi sono territori italofoni esterni all'Italia io in particolare opero in Svizzera italiana mi chiedo se questo progetto possa includere anche proposte e fruizioni appunto da territori esterni all'Italia come la Svizzera italiana e San Marino territori che peraltro potrebbero trovarsi finanziamenti io non lo so nel senso che le poche informazioni che si hanno che io sono riuscito ad acquisire sono quelle che ho dato e non so se esiste un piano di gestione mi sembra di capire appunto che al di là dei contatti presi in maniera puntuale non generalizzati con singoli istituzioni culturali da parte dei gestori della piattaforma non esista ancora poi magari invece è prevista un'apertura a proposte spontanee siccome l'idea iniziale da cui parte almeno per quello che noi capiamo la proposta del ministro Franceschini è quella di offrire alle aziende culturali del nostro paese la possibilità di vendere i propri prodotti online immagino che non debbano esserci limitazioni anche di tipo territoriale però è tutto così fumoso e temo veramente che non ci sia neanche ancora almeno sia stato predisposto un piano di gestione di queste iniziative riguardo invece ho sentito poco fa dire che una piattaforma gestita da privati no? non è gestita da privati ma è gestita dalla più grande azienda pubblica italiana Cassa Depositi e Prestiti che ha costituito una società per azioni ad hoc comprando la piattaforma più volte citata di Cine che non so se è meglio o peggio però bene diamo inizio alla seconda sessione eccomi ora mi sentite forse ho avuto un problema di connessione mentre vi leggevo i commenti direi di passare alla seconda sessione sì e il primo relatore invitato è Paolo Giulierini direttore del Museo archeologico nazionale di Napoli dal 2015 è stato autore della grande trasformazione una trasformazione radicale che sotto gli occhi di tutti con la riapertura di collezioni che erano chiuse da anni il ripensamento dei flussi all'interno del museo e anche l'apertura dei depositi e ha promosso nei giorni della pandemia nei giorni della chiusura del museo un'attività un'offerta digitale che è stata ricca e diversificata anche per questo insomma siamo interessati al suo punto di vista sulla questione dell'Itsart prego Paolo Salve buonasera e grazie dell'invito prima di tutto è un tema questo della piattaforma molto molto interessante sul quale insomma mi fa piacere insomma poter dire qualche cosa e soprattutto dalla parte dei musei mi mi preme però fare un paio di un paio di premesse diciamo così personalmente ritengo anch'io che prima di avventurarsi in sfide di questa caratura occorre capire e quantificare quanto quanto costano certe piattaforme diciamo non necessariamente culturali insomma ma anche quelle che senza senza farne pubblicità siamo tutti abituati a conoscere e a utilizzare e quanto poi credo che sia stato già detto ma insomma lo ribadisco sia importante appena si inizia un processo ottimizzare al massimo le risorse che ci sono in giro e quindi come dire insomma la nostra stessa radio televisione italiana insomma ha un buon bagaglio insomma di di dati insomma di risorse che andrebbero sicuramente sfruttate al massimo riordinate meglio conosciute insomma ma devo dire insomma che ci sono già delle cose che funzionano molto bene quindi forse poteva essere importante potrebbe essere importante raccordare ottimizzare ottimizzare al massimo le risorse in campo dico questo perché come voi sapete insomma esiste ancora una legge per i musei la legge Ronchè insomma del 92 insomma ormai può essere in parte già superata ma in base alla quale ad esempio non solo le immagini ma tutti i film che vengono realizzati in Italia e anche nei musei di contenuto insomma culturale obbligatoriamente insomma sono anche in qualche modo una sorta di proprietà o utilizzo dei musei stessi e quindi del ministero allora un museo come Napoli per esempio che è il più grande prestatore al mondo del ministero insomma pensate che copre il 75% dei prestiti che abbiamo mostre in tutto il mondo ogni anno abbiamo circa mostre in 30 capitali internazionali è un museo che di continuo riceve richieste di sette televisivi insomma e filmografici per realizzare documenti di alto livello però poi succede che spesso la copia del film viene in qualche modo inviata al museo e rimane agli atti diciamo così allora il museo di Napoli tra l'altro non è nemmeno dei più grandi insomma esistono realtà ancora più importanti come gli Uffizi come Pompei come il Colosseo insomma e molti altri io credo che la prima fase potrebbe essere questa quella di una riflessione dell'enorme patrimonio già a disposizione insomma di Raitech e anche di tutti i musei che in qualche modo lavorano di continuo con la filmografia e con la documentaristica e che attraverso le loro immagini poi di ritorno hanno anche nei loro database questi questi film e questi documentari in seconda battuta naturalmente occorre uno sforzo economico di gran lunga più ampio insomma quindi non sono certo queste le cifre con cui si può pensare insomma di far fronte a questa a questa diciamo così a questi giganti anche nazionali ma soprattutto internazionali mi preme però ricordare anche questo i musei statali soprattutto le realtà autonome sono state negli ultimi 4-5 anni finanziate io direi anche in maniera importante dal ministero per realizzare prodotti digitali prodotti di grande creatività che devo dire è difficile in qualche modo conseguire fino in fondo perché voi sapete quanto è difficile spendere soldi europei questo è un tema che si dibatte in questi giorni per problemi ben più ampi però attraverso questi finanziamenti che sono decorsi dalla fine del 14 fino al insomma fino ai giorni nostri per esempio il MAN ha iniziato una campagna molto importante di realizzazione di prodotti abbastanza innovativi che potrebbero costituire una sorta di stimolo diciamo così per iniziare a pensare a quali tipi di prodotti possono essere in qualche modo immessi in una potenziale piattaforme ad esempio noi abbiamo realizzato un paio di film diciamo dedicati al backstage del museo che hanno avuto un discreto successo insomma uno è stato presentato anche al festival di Venezia insomma a settembre scorso ma anche molti cortometraggi in varie lingue dal titolo antico presente che hanno vinto diciamo il primo premio al festival del cinema archeologico di Aquileia nel 2020 dove non si parla sostanzialmente di museo ma di uomini donne che lavorano nel museo della empatia delle sensazioni che possono essere generate all'interno di questi di questi istituti oppure cose anche più semplici coinvolgenti dal punto di vista comunicativo dei super corti richiamo io di 4-5 minuti dove tutti gli archeologi gli storici dell'arte ma anche spesso persone che lavorano all'interno del museo hanno parlato ovviamente in lingua inglese insomma di un'opera un'opera vista da ciascuno di loro cioè in una forma colloquiale in una forma molto diciamo così dinamica e vicino alle persone ancora per esempio nell'ambito di queste produzioni che teoricamente potrebbero far parte di una mini piattaforma sono stati coinvolti per esempio i Dejacal che sono dei ragazzi che sono molto apprezzati sul web e che scherzano fra virgolette con con l'archeologia anche perché insomma io credo che noi dobbiamo amare il lavoro che facciamo ma non dobbiamo correre il rischio come è successo anche nelle generazioni precedenti di prenderci troppo sul serio anche perché poi il rischio è di non comunicare più empatia con i giovani insomma perché i giovani si sentono poi spesso in qualche modo esaminati insomma allora ecco questa idea che tra l'altro è contemplata anche dall'ICOM dall'UNESCO che i luoghi della cultura debbano educare però divertendosi è sicuramente diciamo un aspetto che dovrà essere preponderante anche nella costruzione dei nuovi contenuti oppure per esempio la serie che abbiamo realizzato con Ugo Capolupo dedicata appunto intitolata il lupo al museo dedicata a una serie di candy camera che in qualche modo creavano dei problemi al pubblico e facevano riflettere però poi alla fine c'era anche in qualche modo il riso il riso finale altri temi sono stati affrontati invece nell'ambito delle nuove tecnologie per esempio la realizzazione di un videogame che è stato in qualche modo esportato in tutto il mondo scaricato da 5 milioni di persone padre and son tradotto in 10 lingue e anche in napoletano che voglio dire era una lingua due minuti rimasti la lingua di corte alla corte di caterina allora tutto questo che per dire che cosa diciamo così per dire che da una parte è vero che diciamo così una una sfida buttata in mezzo come la netflix della cultura da parte del ministero necessita di un doveroso approfondimento dall'altra che occorre quindi nell'ambito di questo approfondimento ottimizzare al massimo le risorse già in campo però occorre secondo me anche uno stimolo da parte di tutti i musei che possono percorrere delle vie innovative strategiche non è vero che i fondi non ci sono perché i musei hanno avvoduto di molti fondi per questi è vero che molti fondi non sono stati spesi perché bisogna dire anche questo è vero che i musei più piccoli sono effettivamente svantaggiati ma è anche vero che si può fare rete tra musei grandi e musei piccoli quindi io credo che in conclusione questa prospettiva se ricalibrata possa avere diciamo un senso e al di là diciamo di tutto occorre anche una spinta dal basso per aiutare diciamo così una innovazione che innovazione non era che era più enunciato che innovazione ma molto si è creato dal basso occorre adesso un bel tavolo di lavoro che metta insieme anche i contenuti che in parte ci sono in parte possono essere realizzati grazie grazie a Paolo Giuliarini è indubbiamente una prospettiva un punto di vista un po' diverso e anche dal mio dal mio punto di vista anche più comprensibile perché un museo del patrimonio un museo storico in un certo senso è anche sicuramente anzi senza un certo senso più appetibile per un eventuale Netflix dell'arte questo è ovvio il contemporaneo già parte svantaggiato molto svantaggiato e peraltro è uno svantaggio come dire ormai strutturale in Italia che chiaramente questa Netflix dell'arte non andrebbe assolutamente a colmare però a proposito di esperienze di realtà anche audiovisive realizzate appunto sull'arte sul patrimonio viene bene ora l'intervento l'invito della prossima ospite cioè Silvia Lucchesi che si occupa di contemporaneo essendo tra le fondatrici nonché direttrici del festival che ha luogo a Firenze lo schermo dell'arte essendo comunque una storica dell'arte e essendosi direi sempre adoperata per un per un incrocio per un incontro tra arti visive e appunto video cinema cinema d'artista eccetera allora Silvia se ci sei la parola a te buonasera grazie di questo invito a parlare di qualcosa che devo proprio confessarvi cioè la piattaforma streaming qualcosa su cui ci siamo interrogati come schermo dell'arte quando è iniziata la pandemia prima della pandemia mai e poi mai avremmo immaginato che questo avrebbe potuto essere uno strumento a disposizione di noi operatori culturali poi inevitabilmente durante la pandemia è successo tutta una serie di riflessioni per cui il nostro festival quest'anno si è svolto esclusivamente in streaming questo per dire che non non dobbiamo demonizzare lo strumento perché lo streaming sicuramente fornisce è uno strumento che fornisce anche conoscenza ma dà delle possibilità a chi lavora come noi nel mondo della cultura di arrivare a un pubblico molto ampio questo aspetto non è stato toccato ancora per esempio e mi piacerebbe appunto al di là di mettermi a commentare che cos'è Itzart che non vedo l'ora di vederla per capire davvero e mi è molto interessato le notizie che ci ha fornito Umberto Croppi così in anteprima al di là appunto di andare a parlare perché mi sembra nata morta questa piattaforma lo dico subito perché mi sembra che non ci siano davvero le condizioni perché possa essere almeno un soggetto che possa competere nel mercato veramente ormai amplissimo delle piattaforme quindi mi sembra che nasca morta quindi non voglio mettermi neanche a commentare poi tra l'altro nasce da un'idea sbagliatissima del futuro dell'arte e della cultura che non voglio neanche commentare però non voglio demonizzare lo strumento piattaforma e vi voglio semplicemente dare due dati perché ne parlavo in questi giorni con il fondatore di My Movies che probabilmente conoscete nella piattaforma di cinema che è la piattaforma che noi abbiamo utilizzato per il nostro festival e mi ha dato mi ha detto dei dati che sono abbastanza sconvolgenti mi rendo conto che parlando di cinema è qualcosa di molto diverso dagli arti performative e mi trovo totalmente in linea con quello che è stato detto prima sia da Virgilio Sieni che da Romeo Castellucci ovviamente ma per quanto riguarda il cinema che comunque ha un momento importante di socializzazione quando si va in sala diciamo che la visione di un film è tollerabile anche su uno schermo ad un computer e che cosa è successo quest'anno di pandemia sulla piattaforma My Movies i festival di cinema italiani che si sono rivolti a My Movies ovvero tutti a cominciare da Venezia fino al al progetto più piccolo tutti sono andati in streaming sulla piattaforma My Movies hanno totalizzato 400.000 ore di visione sono delle cifre mostruose 400.000 ore di visualizzazione e un altro dato che lo so che non bisogna parlare di soldi però dico anche che i festival che avevano una percentuale degli incassi che veniva preso da My Movies che si compra appunto per cui si comprano le visualizzazioni con la carta di credito i festival complessivi italiani in questi ultimi sei mesi hanno incassato 500.000 euro ora questi sono sono dati che poi andrebbero analizzati in maniera molto diversa che cosa viene fuori My Movies prima che i festival di cinema decidessero di 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 spostare la loro programmazione della dalla sala sulla piattaforma per si è perso il suono si è persa anche l'immagine si è persa la connessione con Silvia Lucchesi l'abbiamo persa completamente provare a collegarmi a quanto diceva Silvia senz'altro il fatto di poter contare su delle piattaforme come My Movies ma My Movies non è stata l'unica ha aiutato in qualche modo i festival quest'anno però non bisogna pensare che costruire un festival online sia infinitamente più facile di farlo nella maniera tradizionale nella forma dell'incontro scusate forse io ho a me è saltata la connessione e qui mi abbiate perso completamente io continuo a parlare riprendere scusatemi io ci sono di nuovo bene Silvia no riprendi stavi sì non è non è stato facile chiaramente perché non hai la temperatura non senti non hai l'incontro con il pubblico non hai il momento di socialità fondamentale che è il cinema perché il cinema è basato almeno la visione di un film come tutti sappiamo è basato su una socialità che sulla piattaforma si perde sulla piattaforma abbiamo tentato e anche tutti gli altri festival lo hanno fatto abbiamo tentato di portare altri contenuti oltre al film per cui abbiamo fatto delle dirette sfruttando la piattaforma oltre anche ai nostri social abbiamo portato delle dirette con gli autori per esempio ci sono state varie conversazioni con gli autori che venivano trasmesse come questa nostra di oggi in diretta facebook per cui potevano coloro che si collegavano potevano intervenire e abbiamo creato il momento del famoso Q&A con l'autore ma non solo abbiamo sfruttato la piattaforma anche per fare dei veri e propri delle vere e proprie tavole rotonda con autori e professionisti curatori artisti che ovviamente erano all'estero perché nessuno poteva viaggiare e sono state trasmesse e quindi anche il lavoro più di ricerca di approfondimento che fa lo schermo dell'arte intorno ai temi di cui ci occupiamo è stato svolto in questa forma appunto attraverso Zoom quello che volevo forse non mi ricordo non so più a che punto sono arrivata finché voi avete potuto seguirmi la piattaforma My Movies con la quale appunto discutiamo continuamente anche perché abbiamo deciso che anche il Festival 2021 sperando e contando fermamente di tornare in sala noi abbiamo già scelto che si terrà in forma ibrida quindi sia la sala che lo streaming perché noi abbiamo acquisito una quantità di pubblico da questa esperienza che non avremmo ovviamente potuto raggiungere perché non possiamo neanche aspettarci che da tutta Italia la gente venga a Firenze per vedere il nostro Festival e quindi noi dalle statistiche poi che ci sono state date da My Movies abbiamo potuto vedere quali sono le zone in Italia dove ci sono state più connessioni è stato estremamente interessante e è stato estremamente interessante questo strumento per la didattica avrò questa parentesi poi chiudo e levatemi la parola appena appena sforo noi abbiamo fatto convenzioni con università e accademie italiane per la visione gratuita dei film che ovviamente erano a pagamento a una cifra assolutamente politica di 9,9 euro per tutto il programma che si sono connessi hanno fatto laboratori didattici intorno ai nostri film e quindi diciamo abbiamo anche raggiunto un pubblico di giovani e studiosi e studenti di accademia quindi di futuri artisti o universitari quindi futuri studiosi e ricercatori che hanno potuto vedere questi film e utilizzarli per i loro corsi corsi universitari il fatto che diceva My Movies appunto parlando l'altro giorno che il fatto che questi festival che i festival di cinema italiani si siano svolti sulla piattaforma ha contribuito anche alla piattaforma ovviamente perché ha portato tutto un pubblico un pubblico che alla piattaforma prima non era arrivato perché le piattaforme funzionano con degli algoritmi come sapete anche Netflix funziona così ti appaiono le offerte e te scegli in questo caso nel caso dei festival e della possibilità di mettere online tutti i materiali inediti per l'Italia ha portato un numero enorme di utenti in più alla stessa piattaforma e di utenti molto specifici di un pubblico di qualità interessato a dei contenuti molto 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 specializzati diciamo questo è un po' il contributo che voglio dare qui io dicendo che Itzart secondo me è nato morto ok volevo volevo solo aggiungere una cosa perché da quello che hai detto te ora e da quello anche che è verso prima dagli interventi diciamo più critici sembra molto chiaro che questa Netflix della cultura semmai è una Netflix del visivo cioè del visivo dell'audiovisivo di quello che si può trasmettere appunto in streaming oppure in differita ma ovvio che non può riguardare certe altre forme artistiche quindi anche chiamarla una Netflix della cultura è intanto improprio appunto quello che ci hanno detto Castellucci e Sieni ma quello che probabilmente uscirà fuori anche appunto dalle arti visive e plastiche io mi taccio Chiara a te continuare a chiamarla Netflix della cultura facciamo un po' un regalo al ministro seguendo una delle sue dichiarazioni roboanti a cui ci ha abituato proviamo a chiamare la piattaforma magari d'ora in poi e ci viene più facile io adesso introduco Irene Serini che è un'attrice autrice attiva principalmente teatro ancora non la vedo mi confermate se c'è Irene Irene Serini conferiamo che c'è le ho chiesto di accendere il microfono Irene dovresti essere mutata come ci sono benissimo allora grazie dico due cose ancora su di te e poi ti lascio la parola allora Irene Serini è attrice autrice è attiva principalmente a teatro dopo essersi diplomata alla scuola del piccolo teatro di Milano ha vinto il premio istrio alla vocazione e sessualità identità di genere sono dei temi a lei particolarmente cari e ha infatti portato in scena monologhi da lei scritti dedicati a Mario Mieli e a Moana Pozzi ti lascio la parola Irene ciao Chiara ciao a tutti vi ringrazio di questo invito non posso purtroppo che confermare e sottoscrivere tutto quello che è stato già detto da Romeo Castellucci Virgilio Sieni che mi hanno preceduta e che insomma hanno preso parola prima di me in merito allo specifico del del teatro io in realtà volevo provare insieme a voi a prendere la cosa da un'altra prospettiva nel senso mi sono proprio chiesta dal momento che è evidenti sono evidenti i limiti di questa piattaforma e sono già stati sviscerati benissimo da voi e da chi mi ha preceduto mi sono anche chiesta ma scusa ma cos'altro sarebbe stato possibile fare invece che ipotizzare questa Netflix questa piattaforma come giustamente hai suggerito tu Chiara di chiamarla e quindi mi sono fatta un piccolissimo elenco di cose che riguardano il nostro settore il teatro e dello stato in cui versa in questo momento vi lancio questo elenco non per protestare ma perché sia uno spunto da cui partire in merito a quella che è stata la visione proposta dal ex ormai ministro della cultura dall'altezza a cui vola questa proposta perché in teatro abbiamo ancora un sacco di problemi e ci siamo trovati con questi stessi problemi nel momento in cui la pandemia è scoppiata e ci siamo trovati tutti quanti a casa elenco il 30% dei teatri riceve il 70% del finanziamento pubblico a riprova del fatto che sono ovviamente finanziamenti certamente scarsi rispetto ad altri paesi ma sicuramente amministrati e distribuiti in maniera discutibile nel 2019 qualche mese prima dello scopo della pandemia avevamo una percentuale di lavoro nero a teatro che era spaventosa corrispondeva al 37,3% anche a teatro come in altri settori non solo culturali si manifesta la fuga dei cervelli tutti i teatranti scappano per così dire in Francia in Belgio dove si sentono maggiormente tutelati e ne hanno ben donde dal momento che i contratti nazionali possibili nel nostro paese per un attore sono più di mille in questo momento quindi figuratevi che tipo di tutela possiamo trovarci con questa sorta di giungla di contratti nazionali possibili tutta la competizione per quello che posso aver capito io che non mi occupo di amministrazione di un teatro però la competizione è basata sui numeri e quindi sulla quantità piuttosto che sulla qualità c'è il problema dei borderaux c'è il problema delle quantità di produzioni da fare c'è un problema quindi tipicamente capitalista in qualche modo c'è dato dalla quantità più produciamo più saremo poi finanziati che in un settore culturale presumo quale che sia diventa difficile da indagare insomma da mettere in atto e via via tantissime cose perché potrei perché l'elenco è lungo e non ve lo faccio tutto perché abbiamo poco tempo ma prima Romeo Castellucci parlava delle giovani compagnie della loro impossibilità e l'ha confermato anche Virginio Sieni ebbene c'è modo di sostenere i giovani o le compagnie indipendenti a cui sono affezionata perché rappresento anche gli artisti indipendenti i progetti che tu hai citato prima sono progetti indipendenti quindi se esistessero se esistesse una politica in grado di fortificare tutte quelle che sono i luoghi di residenza luoghi di residenza che all'estero nei luoghi già citati sono luoghi che possono permettersi sempre di finanziare le compagnie che stanno ospitando quindi il luogo di residenza diventa un primo luogo produttivo diventa un luogo dove alla compagnia giovane viene concesso anzi viene richiesto di presentare il proprio lavoro e di presentarlo di fronte a una serie di operatori culturali che aiuteranno e sosterranno la produzione tutta la distribuzione è un fattore importantissimo insomma non sapevamo dove mettere le mani perché come ti giri ti giri c'era un argomento da affrontare io sono un'attrice il mio lavoro viene riconosciuto molto spesso soltanto quando vado in scena le stesse prove sono messe a repentaglio di riconoscibilità economica molto spesso quindi voglio dire un attore lavora anche nel momento in cui si forma lavora anche nel momento in cui va nelle carceri nel momento in cui va negli ospedali nel momento in cui va nelle scuole tutte cose che sono abbandonate in questo specie di chiamiamola giungla in cui bisogna continuamente arrabbattarsi e manca una visione politica che possa fare e rendere questo sistema teatrale virtuoso quale che sia la visione politica faccio un altro esempio all'estero abbiamo il National Theater a Londra che è un luogo che non solo è obbligato a leggere i testi che gli alivano di drammaturgia contemporanea ma che ne commissiona commissiona 70 testi di drammaturgia contemporanea e ne produce un tot voglio dire è un modo questo di sostenere la drammaturgia ben diverso che proporre una piattaforma cosa sto cercando di dire oltre a protestare passatemi passatemi la protesta ma non voglio non voglio fare sterile protesta voglio semplicemente dire che manca una visione politica ma d'ampio raggio nel nostro settore ne avremo un enorme bisogno l'unica penso pensiero che venga oggi come oggi riconosciuto come utile innovativo nel nostro settore è stato quello proposto nel dopoguerra da Paolo Grassi e da Giorgio Streller loro hanno rivoluzionato il teatro loro l'hanno rigenerato in qualche modo hanno proposto un'idea di decentramento culturale hanno messo e qui arriviamo al dunque hanno dato al pubblico un ruolo da protagonista questo lo dico perché è un fatto importante perché è stato detto anche da chi mi ha preceduto e si occupa di teatro il pubblico non possiamo farne a meno se a teatro togli il pubblico e il pubblico in presenza è come toglierci le mutande come posso dirvi se si accetta che il teatro sia un rito laico si accetta anche il fatto che il rito avviene seguendo certe regole si accetta il rito non può avvenire ovunque non può avvenire senza seguire determinate leggi che faranno poi nascere esprimere questa ritualità non è proprio pensabile per noi rivolgerci a un pubblico banalmente ripeto non voglio abbassare il livello della qualità del dialogo ma è un esempio semplice e banalissimo io ho cominciato a 16 anni e come tutti i teatranti del mondo avevo un unico obiettivo che era quello di far uscire la gente di casa che era quello ci dicevamo e continuavamo a ripeterci con tutte le nostre inquietudini noi dobbiamo trovare il modo di far alzare la gente dal divano di fargli spegnere la televisione di fargli spegnere lo schermo e venire a teatro perché il teatro era quel luogo che come giustamente Paolo Grassi esibiva nei suoi pensieri nelle sue politiche quel luogo che è uno strumento di elevazione sociale e non è uno strumento di isolamento culturale per cui ho cominciato con gente che mi diceva facciamo uscire la gente di casa portiamola a teatro e mi ritrovo oggi con qualcuno che dice no 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 la gente deve stare a casa chiusi a casa davanti a uno schermo bidimensionale questo è il problema che mi propongo è proprio un fatto di principio insomma che è emerso però già splendidamente sia da insomma da chi mi ha preceduto guarda se mi lasciate visto che sento il silenzio ne approfitto e vi leggo una frase che recentemente mi sono trovata proprio a recitare noi attori siamo citazionistici terribilmente lo siamo per natura è una frase di Antonio Neiviller un teatrante appunto me l'ha fatta conoscere un regista con cui ho lavorato recentemente si chiama Fabio Kerstic e ve la leggo è molto azzeccata nell'ipotesi di massima informatizzazione della società e di massima massificazione delle condizioni di vita degli uomini si andrà a teatro perché là ci sono ancora degli esseri che sudano che piangono si tagliano cadono si disperano e sono felici si andrà a vedere questo evento come qualcosa di non manipolabile di non bidimensionabile Antonio Neiviller grazie 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 Irene Serini e ora ora però c'è io ho perso la chat Marco Messina chi chi ha il padrino la madrina di Marco Messina chi lo introduce e arriva c'è Maria Giovanna Mancini se Stefano la può eccola qua se Stefano la deve deve accendere il microfono Stefano eccomi grazie 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 Irene mi dispiace aver tagliato con questi incidenti tecnici l'intensità del tuo intervento però questa è la realtà e introduco Marco Messina che è un musicista un sound designer e tra i fondatori il gruppo 99 Posse di recente è stato impegnato con gli intermittenti spettacolari e il coordinamento arte e spettacolo della Campania nel 2019 firma con Sasha Ricci la colonna sonora di Martin Eden di Pietro Marcello e vi segnalo solo il uno dei suoi ultimi progetti che è Immersive Cities in cui Marco ha realizzato un ritratto sonoro della città di Napoli lo trovate online prego Marco mi sentite sì adesso ti sentiamo scusa molte persone no no figuratevi molte persone hanno in tanti e questo mi fa piacere hanno detto molte cose simili a quelle che io dirò quindi o che avevo pensato dire quindi cercherò anche di andare oltre io voglio dire che voglio partire dicendo che secondo me come qualcuno nei commenti ha detto non è un problema il medium ma come questo è vero nel senso che non c'è niente di strano nell'avere una piattaforma che si occupa di arte il problema è se viene fatto con danaro pubblico e se viene fatto con danaro pubblico in questo periodo storico è con questo metodo perché io credo che innanzitutto come hanno detto tantissime persone ci sono tantissime forme d'arte che non non prevedono cioè è inconcepibile io lavoro anche a teatro come musicista per me è inconcepibile uno spettacolo teatrale visto in televisione certo ci potrebbe essere qualcuno che trova un modo per portare il teatro nello schermo ma comunque come dire se qualcuno lo fa non è detto che debbano farlo tutti mi auguro che pochissimi lo facciano però magari qualcuno lo fa e ci fa scoprire una cosa bellissima quindi innanzitutto un'operazione escludente poi un'operazione sbagliatissima in questo periodo storico perché in questo periodo storico se ci deve essere un investimento di danaro pubblico nel settore dell'arte e dello spettacolo deve essere fatta per invogliare la gente a uscire di casa perché noi siamo stati abituati per forza di cose a stare un anno chiusi in casa e penso specialmente ai ragazzi più giovani che quindi hanno vissuto un anno 360 giorni fondamentali nella loro crescita nel loro sviluppo anche relazionale e culturale chiusi in casa davanti a uno schermo in vestire del danaro pubblico per creare altri contenuti da vedere in uno schermo quando è un anno che stiamo davanti a uno schermo a me mi sembra una cosa che non ho ancora capito se è stupida o criminale ovviamente come dire secondo me sarebbe opportuno dire che cosa si potrebbe fare perché come dire mi sembra che più o meno tutti siano quasi tutti siano contare a questa piattaforma aggiungo un'ultima cosa perdonatemi anche se si è detto di non usare il termine Netflix però il fatto che sia stato usato è anche lì secondo me una cosa sbagliatissima da fare con il danaro pubblico perché chi produce oggi cultura e arte ha un problema che è quello di scontrarsi con un linguaggio unico cioè le piattaforme come Netflix nonostante producono delle cose belle che vedo anche io stanno diffondendo un linguaggio unico un unico modo di fare cinema un unico modo di fare documentari un unico modo quindi il pubblico dovrebbe intervenire per dare spazio a più cose cioè mi spiego io quando ero piccolino passavo parecchio tempo davanti alla televisione potevo accedere a Pirino ma potevo accedere anche a Gasman potevo vedere Furia il cavallo del West ma potevo vedere anche Carmelo Bene questo dovrebbe fare il pubblico abituare diciamo il pubblico scusatemi il gioco di parole a una varietà di linguaggi passo alle proposte allora io credo che innanzitutto la politica appunto si dovrebbe occupare di problemi enormi che ha almeno diciamo il mondo che io vivo è quello della musica del teatro del cinema che molto spesso è fatto di mancanza di spazi ci sono nel caso della musica ma comunque anche del teatro c'è una tragedia nel nero io conosco tantissimi musicisti che nonostante abbiano fatto tantissimi concerti nel 2019 avendoli fatti tutti a nero praticamente per l'Inps erano dei fantasmi e non hanno potuto avere nessuna forma di ristoro questo è un problema che la politica dovrebbe affrontare ma anche dal punto di vista della produzione anche diciamo così al di là ovviamente del fatto che ci vorrebbero del danaro pubblico per sostenere le compagnie i produttori chi fa musica il cinema indipendente e che appunto si prodiga di fare qualcosa di diverso da ciò che è diventato un linguaggio unico cioè una cosa che secondo me si potrebbe fare e si potrebbe chiedere cioè lo stato ha dei canali cioè esiste la RAI e io non capisco perché per esempio un canale come RAI 5 o non si dà un canale a disposizione delle arti perché a me piacerebbe tantissimo che ci fosse un canale dove un regista teatrale può raccontare dello spettacolo che sta facendo un attore può raccontare del perché ha deciso di fare l'attore che cosa significa per lui fare l'attore cioè non è detto che nello schermo bisogna per forza far vedere uno spettacolo o far vedere un concerto se io avesse a disposizione del tempo per me io non farei non farei un concerto davanti alla televisione ma mi piacerebbe parlare di che cosa ho fatto per diventare un musicista quali sono state le mie esperienze formative cioè dare spazio alle varie forme d'arte sarebbe una cosa fondamentale appunto per dare pubblico e quindi di conseguenza sul lungo periodo creare anche economia attorno a queste cose perché come dire io uno dei motivi per i quali ho deciso di fare il musicista è per credo il primo stimolo almeno a memoria mia fu da piccolino mentre guardavo la Rai Super Gulp una trasmissione di cartoni animati tra un cartone animato e un altro faceva vedere il rumorista che faceva i suoni del cartone animato e io mi innamorai di quel lavoro oggi non c'è non c'è non c'è nulla che racconta queste cose esistono tanti mestieri non solo anche attorno all'arte perché non si può raccontare che cosa significa essere uno scenografo un drammaturgo uno sceneggiatore un sarto un attrezzista io questo vorrei che fosse fatto da una da una piattaforma che però non è inutile creare una piattaforma perché esiste la Rai la Rai che negli anni ha ridotto sempre di più lo spazio dedicato alla cultura ma non solo Rai 5 anche i canali che hanno un grande pubblico perché Rai 1 Rai 2 Rai 3 non fanno più cinema bello cioè tranne rarissimi casi e ci sono tanti casi però sono rari perché io non riesco più a vedere determinate cose che prima si vedevano e guarda caso da quando non ci sono più è iniziato un lento inesorabile declino io credo di aver anche finito probabilmente avrà anche altro tempo ma molte delle cose no mi dispiace interromperti ma sono andato un po' sì ma non è grave voglio dire solo una cosa che io concludi la cosa migliore che noi possiamo fare è fare una cosa che non abbiamo mai fatto parerete smettere di pensare che i problemi del teatro sono i problemi del teatro i problemi della musica sono i problemi della musica i problemi dell'arte contemporanea sono i problemi dell'arte contemporanea perché i problemi il problema è unico è un modo di utilizzare l'arte e la cultura solo per diciamo appunto abbiamo fatto il Netflix della cultura per fare lo spot elettorale o qualche volta per distribuire prebende non c'è un piano e se ci muoviamo insieme forse riusciamo a ottenere qualcosa scusatemi l'allungo Marco grazie vorrei il problema della rete penso che si riproponga molto chiaramente con questa idea di arti che si appiattisce al visivo e al consumo esclusivamente al consumo di un prodotto fatto altrove e da qualcun altro io direi se per voi va bene per tutti va bene di saltare questo solo questo blocco di domande che verranno poi riproposti alla fine della terza sessione di passare direttamente alla terza sessione per restare nei tempi quindi chiedo ad Adriana di presentare sì ecco apriamo la terza sessione ci occupiamo qua forse più specificamente di musei di arte contemporanea di arti visive e do la parola a Cristiana Perrella direttrice del centro Pecci Cristiana Cisei e anche docente di management dei musei alla San Raffaele di Milano intanto che aspettiamo il suo arrivo posso continuare ecco bene Cristiana con il tuo curriculum dovete dovete riattivarmi il video perché dice che siete che me lo dovete attivare voi che è stato interrotto proprio adesso Cristina grazie grazie eccomi ecco ti ciao benvenuti ciao grazie ecco non è un attimo scusate che prendo ok non è non è facilissimo oggi intervenire dopo una carrellata così lunga così interessante di opinioni su questo tema e ovviamente le mie coincidono con quelle di molti quindi cerco un po' di focalizzarmi su alcuni su alcuni dei punti che sono stati trattati abbiamo già detto ci siamo molto concentrati sul paragone con Netflix cioè con un'azienda globale dall'enorme fatturato e credo appunto come già altri hanno detto che sia il caso di svincolarci da questo paragone anche se non è che lo facciamo soltanto noi in Italia perché facendo un po' di ricerca per preparare questo intervento visto che in Inghilterra c'è un'esperienza simile a quello che dovrebbe essere It's Art si chiama Maki TV non è non è finanziata dallo Stato è un'impresa privata ma è stata lanciata utilizzando la stessa la stessa similitudine della Netflix della cultura quindi evidentemente serve a far capire di che cosa stiamo parlando cioè di un modo di distribuire contenuti culturali portandoli a un pubblico molto più giovane di quello della televisione di flusso perché sembra che il 90% degli spettatori delle piattaforme Svod siano persone tra i 13 e i 49 anni di età ovviamente questo per me per esempio è un dato appetibile nel senso che in linea generale mi sembrerebbe interessante arrivare con i nostri contenuti a una fascia d'età che può anche generare nuova attenzione per quello che facciamo quindi non sono diciamo come diceva Vezzoli all'inizio io sono d'accordo a non criticare a priori l'idea di mettere in piedi di un servizio di medi audiovisivi on demand su abbonamento il punto dolente l'abbiamo già detto sono i fondi i fondi sono assolutamente inadeguati quelli del progetto It's Art e secondo me intraprendere un'impresa come questa con poco capitale significa destinarla all'irrilevanza quindi è difficile immaginare ovviamente che oggi dal punto di vista pubblico si investa una cifra non so dieci volte più alta di quanto viene impegnato It's Art anche perché come molti hanno detto come io sono assolutamente d'accordo in un momento di emergenza come questo risulta difficile insomma anche comprendere fino in fondo la scelta che mette fondi su questo tema e non su altri che forse appaiono a tutti noi più urgenti però appunto immaginando di di voler di voler veramente affrontare il tema di una piattaforma di questo genere sicuramente come appunto diceva sempre Vezzoli all'inizio sarebbe necessario trovare quantomeno dei partner privati che investano cifre decisamente maggiori d'altronde abbiamo visto che insomma delle produzioni ricche e forti e soprattutto gestite con un linguaggio adeguato all'ambito in cui si vogliono produrre e proporre questi contenuti possono poi avere anche un appeal importante non sono però soltanto i mezzi sufficienti a fare la differenza perché per produrre contenuti audiovisivi e per distribuirli ci vuole il know-how e io credo che questo sia un altro punto molto debole di questo progetto almeno per quello che ci è dato di conoscerlo perché serve know-how sul modello di business che si intende adottare serve know-how editoriale perché un progetto come questo deve avere una linea e non può essere soltanto uno scatolone da riempire serve know-how nella produzione e poi come diceva appunto croppi all'inizio serve know-how nell'utilizzare il linguaggio più adatto al mezzo che si è scelto per diffondere i contenuti quindi anche un linguaggio che sia in grado di farsi nel tempo cioè che sia sperimentale innovativo anche se dunque non sono contrarie per principio all'idea di una piattaforma on demand su abbonamento dedicata ai contenuti culturali ci sono appunto molte cose che mi lasciano perplessa perché abbiamo visto la velocità con cui questo progetto è stato messo in piedi io sono francamente molto stanca di queste modalità che vedono la politica affrontare temi importanti temi soprattutto promettenti in termini di possibilità in una maniera estremamente strumentale e superficiale ecco io so che ci sono stati dei rapidi abboccamenti con Salini della Rai con Gubitosi di Team poi si è deciso di andare invece per una procedura di selezione aperta è stato scelto l'operatore in tempi brevissimi altrettanto brevi sono state le tempistiche per partire con il servizio io credo francamente che le premesse siano premesse peggiori per un progetto di questo genere che credo richieda studio benchmark piani industriali sviluppati con attenzione comunque visto che poco si sa vedremo tra l'altro appunto Cili che è sembrata se ho capito bene una scelta obbligata poi in realtà ha esperienza di modelli di business diversi perché loro hanno un servizio TVOD quindi non c'è l'abbonamento si comprano i singoli contenuti è una cosa molto diversa di sicuro insomma il know-how anche lì è da costruire c'è poi il discorso forse più interessante che è quello della produzione un modello sano o accettabile per un tipo di servizio come quello che si vuole mettere in piedi prevede che una maggioranza di contenuti vengano acquistati ready made cioè pronti a basso costo e questo costituisce il magazzino poi c'è un 20 o un 30 per cento di contenuti che viene prodotto che costituisce la parte più propositiva competitiva anche perché magari è in esclusiva della piattaforma ecco di questo nel progetto non si parla in nessun modo abbiamo già detto che la maggior parte delle istituzioni culturali ha grandi difficoltà soprattutto in questo momento a mettere in piedi di produzioni come quelle necessarie per questo tipo di distribuzione per esempio l'istituzione che dirigo il Centro Pecci ha dal 2016 una web tv che ci sta dando risultati molto interessanti ma che vive nella dimensione dell'approfondimento e della documentazione delle attività del museo e quindi viene rivolta a chi ci segue però io credo non potrebbe reggere il confronto con i prodotti delle grandi delle grandi piattaforme on demand quindi qual è il rischio il rischio che su It's Art si privilegiano contenuti e istituzioni più mainstream più forti a scapito della ricerca della produzione più innovativa che invece potrebbe essere l'elemento realmente interessante di questo progetto l'elemento di forza di forza anche rispetto proprio alla possibilità di differenziarsi rispetto a quello che già esiste sul mercato quello che già fa la Rai che fa Sky Art quindi io vorrei chiudere facendo una proposta perché da quello che ho capito non c'è modo diciamo di interrompere questo processo che già è avviato addirittura addirittura d'arrivo per cui la mia proposta per provare a renderlo più sensato è che il Mibact impegno faccia meglio faccia impegnare a partner privati almeno altrettanti 10 milioni annui per sostenere produzioni indipendenti audiovisive che possono costituire contenuti di punta di It's Art perché ci sono ci sono io non sono del tutto d'accordo sul fatto che alcune forme d'arte naturalmente parlo con più competenza di quello che mi riguarda però insomma ricordo per aver passato quasi un anno negli archivi della RAI facendo un progetto sulla televisione italiana degli anni 70 e in particolare la televisione culturale che gli esperimenti e le esperienze per esempio di teleteatro con quartucci con ronconi sono state comunque straordinarie e è stato straordinario nella RAI di quegli anni il modo di trattare l'arte con focus di un'ora ritratti di un'ora dedicati a grandi artisti peraltro tutti uomini però questa è un'altra storia ma insomma fatti fatti in modo straordinario e soprattutto proposti in prima serata e così via quindi in realtà anche Channel 4 nel Regno Unito ha mostrato in anni più più recenti rispetto alla RAI di quel tempo come si possa fare cultura approfondimento in modo interessante e anche portare contenuti di documentazione diciamo quindi ecco vorrei vorrei forse chiudere con questa possibile proposta immaginando di essere oggi ascoltati da chi da chi decide mettete mettete fondi sulla produzione promuovete la produzione più sperimentale innovativa che sia in grado oggi di di raccontare forse a un pubblico abbiamo detto giovane più vasto quello che tutti noi facciamo grazie Maria sì addio grazie Cristiana stavo per dire la parola a Maria Giovanna per introdurre il prossimo il prossimo ospite grazie Cristiana cioè è sicuramente una proposta su cui su cui si può ragionare e con la speranza con l'augurio che qualcuno ci ascolti questo è questo è un grande scoglio insomma come ben sappiamo Maria Giovanna hai il microfono sì mi sentite grazie Cristiana e anche un momento giusto per introdurre Massimo Fiocchi Malaspina che è direttore d'orchestra e maestro del coro in diversi teatri italiani tra cui il teatri opera Lombardia il teatro Reggio di Parma con la cantante lirica Lucrezia Drei ha fondato nel marzo del 2020 una piattaforma online on theater tv da cui di cui sicuramente ci parlerà e che può affrontare il problema della produzione delle piccole e medie compagnie prego Massimo e Luque grazie intanto per questa possibilità che abbiamo colto veramente in extremis ma ci sembrava importante intanto sentire tutti questi contributi il cui altissimo profilo davvero ci fa riflettere ed è stato veramente motivo di ulteriore insomma ulteriori riflessioni riguardo a quello che stiamo facendo allora come noi siamo siamo musicisti io sono direttore d'orchestra e maestro del coro Lucrezia cantante cantante lirica quindi noi proveniamo dal palcoscenico e a febbraio a fine febbraio dell'anno scorso quando si iniziavano a intravedere quali sarebbero stati i mesi a mio parere difficile che poi effettivamente abbiamo dovuto affrontare ci siamo abbiamo un po' riflettuto su sulla dimensione dello streaming dello streaming esistente perché è vero che quello di cui si parla adesso con Itzart è insomma parliamo della trasposizione dello spettacolo dal vivo in digitale ma effettivamente noi abbiamo tutti noi abbiamo constatato che questa realtà esisteva già se non altro per YouTube per Facebook per un sacco di piattaforme generaliste che contengono molti concerti molte rappresentazioni anche di altissimo livello ecco noi ci siamo messi a riflettere sul fatto che era abbastanza avvilente ecco per quanto fossimo in un periodo in cui era importante stare vicino al proprio pubblico far sentire la propria presenza però credevamo credevamo e crediamo sia avvilente anche un po' forviante per il pubblico rispetto alla professionalità della nostra professione la distribuzione gratuita di spettacoli di altissimo livello spettacoli che sono stati appunto già prodotti che vengono distribuiti appunto gratuitamente allora non abbiamo inventato nulla di che non abbiamo non è l'uovo di Colombo la piattaforma un theater però effettivamente non esisteva qualcosa di veramente fruibile facilmente fruibile che portasse quelli che che sono i contenuti teatrali al pubblico ma attraverso il pagamento di un minimo biglietto la gente il pubblico è abituato a pagare per cili per vedere dei film è abituato a pagare per vedere delle partite perché non deve essere abituata a non si deve abituare a corrispondere un minimo per vedere uno spettacolo un concerto uno spettacolo di altissimo livello perché ce ne sono tanti ci sono distribuiti gratuitamente ci sono veramente prodotti incredibili premetto che questo mio discorso ha origine da uno che fa e Lucrezia anche dello spettacolo dal vivo la propria fonte di reddito principale e quindi sappiamo benissimo che il teatro che la musica dal vivo è insostituibile che lo streaming è semplicemente un qualcosa d'altro forse un amplificatore ma sicuramente non 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 trasmette ma anche solo a livello acustico le stesse sensazioni che può trasmettere una sala da concerto quindi partiamo quindi partiamo da questo presupposto e questo questo rimane veramente molto molto saldo nonostante questo però in una situazione in cui eravamo condannati al silenzio alla chiusura delle sale da concerto ci siamo detti che sarebbe stato il caso di offrire la possibilità alla gente di poter continuare a corrispondere una cifra per ottenere un accesso ad uno spettacolo e d'altra parte agli artisti alle compagnie agli ensamble musicali di poter ottenere un minimo di riconoscimento ma soprattutto di far passare l'idea che sebbene trasmessa anche online quello che noi facciamo è comunque una una professione e quindi era necessario fare fare questo passo secondo me ulteriore abbiamo trovato un finanziatore naturalmente questa cosa sarebbe stata nel mondo dell'idea se non avessimo trovato appunto un finanziatore svizzero un provider che si è fatto carico di questa nostra idea dello sviluppo informatico di questa piattaforma di OnTheater e OnTheater ha avuto avvio il 2 di giugno dell'anno scorso noi abbiamo iniziato a idearla a marzo quando Franceschina ha iniziato a parlare di questa piattaforma di cui appunto da poco abbiamo saputo il nome e anche la landing page siamo riusciti a vedere però quando ha iniziato a parlare di questa piattaforma ad aprile noi abbiamo tentato con i nostri mezzi piccoli grossi insomma abbiamo tentato di entrare in contatto con chi si stava occupando chi stava ideando questa piattaforma semplicemente non tanto per dire esistiamo già quindi fatevi da parte ci mancherebbe loro sono un colosso e noi siamo una piccolissima realtà però stavamo maturando un certo un certo know-how abbiamo preso contatti con migliaia di compagnie veramente noi abbiamo passato marzo l'anno scorso a scrivere migliaia di mail e a scriverle non al nostro mondo ma al mondo del teatro di prosa perché volevamo partire da un bacino diverso presentando la nostra proposta non chiedendo come fa i Zart di mandarci dei contenuti e fornendo una mail senza senza chiari come si dice principi contrattuali noi siamo partiti molto chiaramente dicendo On Theater è un servizio nato da artisti rivolto a compagnie rivolto ad artisti non siamo imprenditori non ci vogliamo guadagnare vogliamo semplicemente ripagarci le spese ed è quello che facciamo e siamo riusciti a partire siamo partiti con un prodotto che ha reso ancora secondo me più importante se così si può dire quello che abbiamo tentato di fare con Alienati che è un'opera del Teatro Coccia di Novara che ci ha contattato perché aveva prodotto durante il lockdown commissionato realizzato cioè prodotto e realizzato un'opera lirica innovativa smart working l'abbiamo chiamata loro perché è composta da intanto cinque compositori registrata da sei sette cantanti lirici alcuni grandi nomi ciascuno da casa propria ed era un'opera interattiva quindi fruibile solo attraverso il digitale quindi diciamo la possibilità di offrire attraverso un teatro virtuale come il nostro che mantenesse un po' questa ritualità ecco quello che noi siamo a cui tutti siamo abituati è la ritualità dell'ingresso del teatro dello sbigliettamento insomma questa ritualità trasferita sul virtuale con questa opera del Teatro Coccia che insomma è un'opera destinata al virtuale perché è un'opera interattiva quindi col pubblico che può fare delle scelte per indirizzare l'esito di alcune domande insomma siamo partiti con quest'opera e diciamo da settembre dello scorso anno abbiamo ingrandito la nostra offerta perché ci arrivano quotidianamente proposte di piccole medie compagnie anche qualche grande teatro che ha necessità di avere un supporto informatico per trasmettere i propri contenuti realizzati ad hoc alcuni di archivio però con ottime riprese audio e video insomma per trasmetterli in modo che vengano garantiti intanto se posso intervenire mi sono segnato alcune cose che hanno sollevato il nostro interesse in realtà riguardo proprio al tema quanto riguarda la questione della produzione che è la questione fondamentale questa è la responsabilità di una società pubblica rispetto a una società privata quale può essere la nostra cioè la responsabilità di una società pubblica è di finanziare la produzione dei contenuti teatrali la questione di quello che non è appunto neanche compito nostro porci in questo momento cioè il sostegno appunto che dovrebbe venire rispetto alle compagnie teatrali dovrebbe appunto essere questo per quanto riguarda il linguaggio teatrale quello che noi possiamo portare a questo forum è appunto quello che stava dicendo Massimo cioè l'incentivare la creazione di linguaggi teatrali nuovi che può essere l'unica cosa che il digitale può realmente fare rispetto al teatro perché di teatro ci occupiamo per quanto riguarda l'audiovisivo non è appunto il nostro campo ed è sicuramente un campo che come dicevano le persone che sono intervenute rispetto a contenuti cinematografici a contenuti di arte visiva è sicuramente più adatto ma appunto per quanto riguarda il teatro quello che può fare il digitale è anche quello che vorrei portare appunto a livello di dati e di esperienze e di know-how che abbiamo sviluppato le cose più interessanti sono per il digitale quelle che esplorano linguaggi teatrali nuovi non che si limitano a riprendere spettacoli teatrali avvenuti in teatro che avvengono in teatro e che vengono trasposti sul digitale grazie a voi grazie a voi prendo la parola grazie Adriana grazie a voi allora non voglio perdere assolutamente tempo dovrebbe già avere il microfono aperto Igor Igor Tuveri sceneggiatore regista italiano soprattutto uno dei fumettisti italiani più noti a livello internazionale darei senza perdere tempo la parola a te grazie intanto per aver accettato il nostro invito ecco ti grazie a voi ho ascoltato dall'inizio questa lunga maratona davvero infinita molto interessante molto belli molto ricchi gli interventi sono io capisco che appunto ci sono sicuramente delle lacune su come è stata impostata la cosa d'altronde mi sembra che entriamo in media stress come si dice no? cioè la cosa è già attiva il progetto è approvato e sta per partire non si è capito molto bene che cosa è se non da questa da questa lunga maratona appunto comincio ad avere le idee più chiare ho capito per esempio che la Netflix della cultura in realtà non è come Netflix che ha un abbonamento per cui invece è come Cili si paga evento per evento che già è una cosa diversa no? perché come contenitore io vengo dal mondo dell'editoria anche della musica eccetera però comunque come contenitore nel momento in cui io mi abbono ho una curiosità che è più facile diciamo stimolare nel momento in cui sono dentro una piattaforma e tutti gli eventi sono uguali invece su Cili io devo proprio vedere voler vedere quell'evento quindi da un punto di vista proprio di uno stato di un governo di un paese che vuole invogliare la cultura secondo me la formula di Netflix è più interessante come formula di abbonamento per il resto io leggo molta paura di situazioni che andranno a scomparire eccetera questa paura io l'ho vista nel mondo della musica c'erano i vinili che sono stati sostituiti dai cd poi i cd dalla musica liquida come si chiama e adesso invece lì sulla mia sulla mia sinistra c'è un impianto stereo per i vinili perché ora il nuovo evento è quello della grande esplosione del vinile come supporto che ha portato in sé anche un certo tipo di contenuti non il singolo della radio diciamo e dall'altro punto di vista anche il fatto che ovviamente la rete non possa sostituire gli spazi fisici mi sembra diciamo perfino banale dirlo io non credo sinceramente così come non è scomparso l'oggetto libro sostituito dall'ebook non credo che scomparirà il teatro non credo che scomparirà il cinema da regista posso dire che tutto il lavoro pazzesco che ho fatto sul suono con i sound designer quando vedo il film su una piattaforma su Sky Art o su Sky scusate oppure su Netflix lo perdo anche se mi metto la cuffia perché non c'è quel sistema lì non viene riprodotto veramente e quindi è chiaro che si tratta di una perdita però qualche anno fa a Parigi incontrai Jean-Pierre Dionnet che è un grande uomo di cinema di fumetto e di cultura in generale anche uno dei direttori di Canal Plus e lui mi disse io ho un miliardo e 300 milioni di potenziali utenti per lo schermo del telefonino hai delle storie per me ecco a me interessa quello che è stato detto poco fa dai musicisti che mi hanno preceduto e anche da Cristiana Perrella che ha pensato in termini propositivi questa è un'altra cosa noi siamo in una situazione di pandemia non è facile uscire non è facile frequentare i musei io sono venuto a trovarti al Mambo e Lorenzo è praticamente il Mambo è un laboratorio d'arte in questo momento allora questa è una situazione di emergenza che ha creato una piattaforma possibile fermo restando che tutte le analisi che abbiamo fatto secondo me sono preziosissime perché va messo posto riparo alle cose perché mi pare molto chiaro il problema dei musei mi pare molto chiaro il problema dei teatri io lavoro con le persone di Teatri Uniti di Napoli o invece che del Teatro delle Albe di Ravenna e li sento quotidianamente e so che ci sono situazioni tragiche però fermo restando che questo non è risolvibile molto facilmente perché siamo in una situazione che conosciamo pandemica appunto io colgo invece con grande favore l'idea di una piattaforma che possa stimolare a un nuovo tipo di produzioni perché l'arte deve anche ritornare a comunicare e non a quella cerchia ristretta di cui facciamo parte in non so due o tre mila persone in tutta l'Italia ecco mi sembra anche un buon auspicio invece ecco penso che sia molto interessante anche come come diceva Messina prima provare a creare nuove strutture di narrazione o di di affabulazione artistica visiva sonora incrociandoci meticciandoci io sono l'uomo di frontiera diciamo a me io lavoro tra il cinema e il fumetto l'editoria in generale e la musica quindi per me è la cosa che assolutamente mi interessa di più e che trovo anche molto contemporanea ecco ho finito il mio intervento un po' in anticipo sui tempi quindi recuperiamo quello che hanno preso i signori del teatro che io amo molto comunque grazie Igor grazie mille per il tuo intervento lascio la parola a Mario Giovanni grazie grazie per questo interessante punto di vista sulla multidimedialità e la multimedialità del lavoro e do la parola a Laura Barreca che è interessata alla conservazione delle arti multimediali ha una formazione da storica dell'arte con un dottorato di ricerca e un posto doc all'Economia University di New York dal 2014 dirige il museo civico di Castelbuono che è in provincia di Palermo e dal 2019 anche il centro delle arti plastiche di Carrara dove insegna anche in accademia e si muove sempre con uno sguardo rivolto tanto ai linguaggi del contemporaneo quanto al bacino del culturale del Mediterraneo prego Laura grazie Maria Giovanna grazie a tutti questo credo sia un incontro utile per tutti proprio perché sono tutte le arti che si incontrano oggi quindi ecco la nostra proposta diciamo finale visto che siamo alle battute finali dovrà essere forse quella di riuscire a mettere insieme facendo dialogare tutti questi ambiti e questi campi disciplinari posto che come ci ha detto Croppi questa piattaforma di Itzart è ormai stata generata è ormai appunto operativa e sarà sicuramente diciamo alla nostra portata tra qualche tempo a questo punto dobbiamo chiederci come rapportarci con diciamo una realtà appunto con una nuova tecnologia con la quale i musei devono confrontarsi però qui dobbiamo fare anche diciamo una un'utile diciamo differenziazione perché esistono grandi musei e quindi musei che hanno appunto capacità anche economiche maggiori e sicuramente appunto una disponibilità che i piccoli musei per esempio non hanno io che appunto mi trovo a gestire da diversi anni più uno che l'altro però due musei pubblici e quindi ad amministrare insomma fondi pubblici so facendo i bilanci che questo è un'attività che diciamo in qualche modo tutto quello che il museo guadagna in un anno lo reinveste zero è sempre una buona cosa perché ovviamente il museo produce quindi ha un'attività ecco ma come confrontarci che cosa dobbiamo fare noi quando It's Art si pone appunto come piattaforma non di streaming ma di mainstream perché potendo diciamo e ipotizzando che non avendo stanziato almeno fino adesso nessuna o avendo programmato nessun tipo di governance rispetto anche alla produzione su cui appunto si è focalizzata tra l'altro la proposta di Giustissima di Cristiana Perrella e anche di altri e questo infatti è l'obiettivo come possiamo confrontarci con questo tipo di di organizzazione che prevede che un museo dia dei contenuti già organizzati già diciamo predisposti quando non possiamo in questo momento tutto il sistema della produzione culturale è fermo quando i lavoratori dell'arte non hanno praticamente più di che campare perché dobbiamo parlare di questo parliamo del paese reale di quello che non ha più possibilità insomma di operare se questo se non esiste diciamo una forma di di produzione insomma di riattivazione della produzione quindi della riattivazione della filiera economica che gestisce poi tutto il sistema di produzione dell'industria culturale come possiamo pensare noi anche piccoli musei quindi in scala a realizzare dei contenuti multimediali che possono essere anche interessanti e sostenere l'interesse diciamo di un sistema mainstream non possiamo quindi io credo che questo gruppo di pressione dovrebbe in qualche modo anche costituirsi come gruppo diciamo per indirizzare le scelte che verranno prese e la governance che verrà data all'interno appunto di questa nuova piattaforma perché se non lo facciamo questo significa che la gestione sarà una gestione oscura o comunque non trasparente perché poi la mancanza di trasparenza è anche quello che è stato diciamo più o meno additato anche da tutta la stampa nazionale alla creazione di Netflix cioè il modo in cui è stata fatta non è stata creata non è stata ovviamente condivisa e allora la proposta sarebbe appunto quella di innanzitutto richiedere appunto un'inclusione rispetto alle necessità reali appunto dei musei e degli operatori del settore quindi capire che i musei più piccoli ecco per esempio io parlo appunto per la mia piccola diciamo parte e spero di contribuire in questo modo ma in che modo è possibile diciamo gestire al meglio soldi che poi arriveranno dal recovery fund in parte o comunque come parte dell'impegno economico che il ministero può programmare per i prossimi anni possa essere riconvertito a sostegno di operazioni che in questo momento hanno bisogno di urgentemente diciamo un supporto economico da parte del pubblico e quindi dobbiamo diciamo fare letteralmente un'ipotesi di lavoro anche rispetto a quello che io appunto ho preso diciamo ho fatto delle considerazioni per esempio al fatto che il mercato delle tecnologie museali e determina una polarizzazione anche diciamo dei rapporti tra istituzioni raccolgo per esempio l'interesse di Paolo Giulierini nella creazione di questa rete tra grandi e piccoli musei ecco questo per esempio potrebbe essere un punto di partenza ecco come fare dialogare questi musei e le istituzioni culturali italiane che hanno scale diverse non dobbiamo dimenticarci che l'Italia è costellata di grandi di piccoli musei scusate di piccoli musei o di di musei di piccole e medie dimensioni che però diciamo rappresentano veramente la ricchezza dell'Italia cioè la ricerca e l'avanguardia si fa spesso nei piccoli musei e quindi questo diciamo è un valore aggiunto che va preservato e va preservato proprio all'interno di momenti diciamo proprio come questo un'ultima cosa la funzione educativa e pedagogica dei musei non dobbiamo dimenticarla perché un progetto per esempio come quello della della Dinsart non dovrebbe dimenticare di assegnare diciamo un valore ai contenuti pedagogici ed educativi che sono propri della mission del museo e sono valori che vanno oltre il marketing e la funzione appunto che poi hanno queste piattaforme di vendere cultura posto anche che ovviamente sono diciamo forme di intrattenimento di intrattenimento virtuale o digitale o a distanza chiamiamole come vogliamo però sono piattaforme di distribuzione ecco inserire in questa diciamo logica del grande marketing anche una forma di attenzione a livello pedagogico questo secondo me è importante e lo strumento chiaramente è il dialogo e l'inclusione nei tavoli di lavoro perché se non diciamo tutto questo poi non arriva nelle stanze dei bottoni o nelle stanze dove si decide si prendono queste decisioni ecco e allora non avremo contribuito fattivamente grazie grazie a te Laura sicuramente questa rete tra grandi e piccoli è auspicabile l'Italia è vero che è come il paese dei cento campanile il paese dei cento piccoli musei soprattutto e quindi è una è anche una risorsa un tesoro che va un patrimonio insomma che va assolutamente preservato io sono per quanto mi riguarda sono anche molto favorevole che questa sia stata l'occasione per far dialogare tutte tutti i linguaggi artistici di cui oggi c'è un gran bisogno nel nostro paese forse non solo e quindi e quindi insomma ecco quanto meno la nostra parte cerchiamo la stiamo un po' cerchiamo di farla insomma ecco io ora do la parola a Francesca Pernone è un altro punto di vista sicuramente il suo Francesca ci sai Francesca è una gallerissa Pink Summer di Genova che gestisce che ha fondato proprio la galleria insieme ad Alessandra Berruti quindi immagino che proprio in quest'ottica anche un po' di guardare di osservare di valorizzare ma anche soprattutto di promuovere di sostenere la ricerca che viene spesso portata avanti da strutture come dire non mainstreaming maestream insomma ci può arrivare anche un suggerimento in quello che è il settore in qualche modo del mercato però un mercato che fa ricerca che fa produzione che uno detende insomma stasera grazie grazie Adriana e grazie tutti dunque noi sicuramente ci siamo chiesti con questa crisi che è iniziata come una crisi sanitaria che andrà avanti come una crisi comunque su vari settori ci siamo chiesti come si può sostenere il sistema e questa è un po' alla domanda che non riesco a leggere in una in un passaggio che sia arrivato poi a determinare un metodo del genere per una decisione come la piattaforma nel senso che se noi guardiamo anche altrove gli altri stati comunque in generale hanno incentivato tantissimo il supporto alle istituzioni nel senso che le nostre istituzioni museali grandi o piccole che siano formano un sistema un sistema fatto di artisti un sistema fatto di produzione quando puoi produrre mostre e comunque di progetti editoriali di collezioni di collezioni permanenti quindi con il sostegno alle varie ai vari enti che formano questo sistema anche con il sostegno alle acquisizioni arrivi ad una penetrazione in tutto il sistema io mi sono chiesta noi ci siamo chieste com'è possibile che c'è una piattaforma che arriva senza alcun confronto con tutti quelli che questo sistema lo formano lo vivono lo insomma lo agiscono da anni e anni e lo supportano non siano non siano stati in nessun modo messi a un tavolo a dire di cosa avete bisogno siamo in una crisi di cosa avete bisogno di cosa hanno bisogno i teatri di cosa ha bisogno la musica di cosa ha bisogno l'arte contemporanea ecco una piattaforma potrebbe essere pensata come una vetrina sembrerebbe e una vetrina come hanno già detto anche altri interventi che ci sono stati c'è chi ha un archivio immenso che può mettere immediatamente a disposizione già digitalizzato e c'è chi invece non ha questo tipo di archivio però non permette di vivere quello che è la produzione perché noi sappiamo che nell'arte contemporanea così come in altre discipline la produzione è poi quello che ti connota dal punto di vista sia della presentazione di opere uniche per cui da forza a una biennale a un museo a una galleria avere quel tipo di progetto che presenterai in quel momento e quindi sicuramente va va implementato come già stato detto dagli interventi prima che cosa si vuole produrre con questa piattaforma perché per me non è chiaro quindi è mancato il confronto è mancata la presa in atto del sistema con le sue istituzioni quindi la presa in carico di un sistema da sostenere e ora non riesco a capire quale perché la produzione specifica si può fare benissimo abbiamo degli esempi meravigliosi come anche le pièce teatrali di Beckett per la televisione per dire che aveva prodotto la Rai per cui hai comunque hai la possibilità se vuoi quel tipo di produzione di andare ad agire con quel tipo di produzione ma con quali fondi una produzione specifica per la piattaforma con quali fondi e quei fondi si affiancano agli altri che sostengono tutto il sistema o si tolgono dagli altri ecco per me sono delle domande cruciali e prima di capire quali contenuti ci possono essere è importante capire che questo sistema noi lo dobbiamo sostenere ora ci rendiamo conto che non è più una situazione di qualche mese è cambiato il panorama non probabilmente nessun paese farà più un lockdown totale e quindi si andrà verso una convivenza con questo virus man mano che siamo vaccinati man mano che si capisce come meglio mantenere la sicurezza nei luoghi e quindi un po' ovunque la chiusura totale dei musei la chiusura totale dei teatri c'è stato un esperimento in Spagna di un concerto cioè hanno fatto il tampone prima hanno fatto il tampone dopo dovevi tenere una FFP2 per tutto il tempo e non si è contagiato nessuno quindi è veramente necessario pensare di far circuitare questo tipo di di attivare tutta una macchina di produzione e comunque se la si attiva va bene ma il sistema voglio dire del museale delle gallerie degli artisti come si sostiene per me è importante anche porci queste domande assolutamente Francesca è importante e poi insomma in questo caso è mancata proprio l'interlocuzione con chi si occupa con chi si confronta quotidianamente con questi problemi con chi li risolve anche questi problemi insomma noi in Italia siamo anche piuttosto abili nel farlo visto che non parliamo da postazioni ottimali io ricordo due cose perché mi scuso l'ho dimenticata prima e ci sono gli auguri a questo focus di Giovanna Melandri cioè della presidente del Maxi di Roma e anche di Flaminia Gennari Sartori che per problemi personali non è potuta intervenire ora do la parola invece a Chiara per l'ultimo intervento per introdurre l'ultimo intervento esatto sì grazie allora ci stiamo avviando verso la chiusura perciò ricordo che le domande possono essere accolte via chat e ora introduco Andrea Romeo che è giornalista critico programmer fondatore di Biography Festival e di I Wonder Pictures con cui distribuisce film molto premiati e ha prodotto tra le molte cose che potremmo citare anche Sampa che è la serie Netflix del momento ciao è stato molto interessante quello quello che ho sentito fin qui io credo che appunto innanzitutto ci sia un misunderstanding cioè ci deve essere stato un misunderstanding voglio credere in un misunderstanding no? un po' come uno che lascia un fontana dai nonni torna e i nonni l'hanno giustato c'è qualcosa che c'è una distanza ma io voglio credere alla assoluta volontà di un ministro peraltro uscente quindi all'assoluta volontà da parte del ministro Franceschini che dà il suo nome alla legge cinema in cui io vivo e lavoro da anni e di cui ho avuto anche l'opportunità di vedere sul campo l'efficacia io voglio credere al fatto che ci sia dietro qualcosa ci sia dietro un pensiero che ancora non abbiamo capito ci sia sicuramente la necessità urgente di un ascolto di un dialogo e quindi l'iniziativa io vi ringrazio moltissimo per per questo invito credo che sia importante una giornata come questa anche per farci trovare più più ficcanti più precisi al confronto con l'istituzione l'istituzione attenzione è il nostro ministero di riferimento quello che tanto abbiamo il MIBAC più o meno T a seconda delle stagioni ma qui si muove cassa depositi e prestiti per me come dire innanzitutto festeggio festeggio il fatto che cassa depositi e prestiti si muove per la cultura e questo secondo me è un merito del del ministero adesso lo sviluppo però è a forbice lo sviluppo è a forbice perché ci sono delle cose che si possono fare facendo dei risultati positivi oppure si rischia di fare un danno veramente grosso per sintesi sostenere stimolare rendere competitive le iniziative digitali di distribuzione della cultura in Italia è sicuramente un target molto intelligente molto pensato e molto azzeccato salvare rincorrere competere direttamente come ente pubblico con chi fa cultura è qualcosa che non deve succedere ma non voglio pensare che sia già successo voglio pensare che ancora come dire il dialogo sia adesso che Cassa Depositi e Prestiti ha fatto un piccolo investimento perché 10 milioni per Cassa Depositi e Prestiti adesso non vi posso dire quanto è costato Sampa però quando si muove Netflix voi potete immaginare i numeri basta che cercate in internet ma basta basta vedere quanto spende la RAI ogni anno in cinema in documentario quanto investe quanto investe l'Italia pre-Covid credo che l'Italia fosse a 400 milioni l'anno sull'audiovisivo e la Francia a 2 miliardi è chiaro la cosa interessante è che siamo diventati siamo diventati un piano importante in cui competere se ne accorta l'Europa l'Europa e quindi il prossimo settennato del quello che noi chiamiamo ancora progetto media è straordinariamente finanziato importante complici anche i paesi del nord Europa e se ne accorta l'Italia probabilmente se ne accorta anche il ministro Franceschini che nel cercare una soluzione di prospettiva voglio immaginare che abbia capito una cosa forte dal suo osservatorio cioè che è necessario creare realtà capaci di competere a livello nazionale e internazionale per un modello molto semplice veramente io ho trovato in Netflix una cosa che non mi aspettavo e che mi ha deliziato cioè la volontà di creare un prodotto locale Sampa lo è stato sotto tantissimi punti di vista noi arriviamo con l'idea ma dobbiamo farlo in inglese dobbiamo farlo per tutti no noi vogliamo dare una qualità locale al prodotto e poi piuttosto esportare un'italianità questo è molto molto interessante che le che le grandi piattaforme l'abbiano capito però comunque ed è stato detto più volte in questi in questi giorni in queste ore la linea editoriale di ogni piattaforma e un po' forse di tutte le piattaforme è una linea editoriale che risente di una cultura di base che è la cultura di base dei capitali che la finanziano quindi tutto sommato di un capitale in questo momento americano ed è questo che ha capito l'Unione Europea l'Unione Europea ha smesso di finanziare i piccoli nell'audiovisivo e vuole cercare di costruire di salvare qualche grande player qualche grande operatore in Europa che sia capace di competere con queste con questi giganti internazionali credo che ugualmente tutti gli stati nazionali e l'Italia non deve fare eccezione debbano investire ma non 10 milioni cioè e non voglio dire non va bene meraviglia questi 10 milioni ma al ministro direi che tutti assieme potremmo dire dialoghiamo grazie dell'intenzione dialoghiamo sul come e la aiutiamo a capire come investire al meglio mentre lei cerca quello che serve che è uno zero in più perché con uno zero in più si fa produzione con 10 milioni si fa infrastruttura e si fa un pochino di distribuzione rischiamo di fare solo promozione e questo non va bene ma se vogliamo fare produzione ci serve uno zero in più e ci serve secondo me una tassa di scopo è facile basta copiare dagli altri i francesi su questo sono imbattibili ci serve una tassa di scopo che è molto semplice e dice tutto quello che funziona e che è pop paga la ricerca perché la ricerca è fondamentale è fondamentale anche per scoprire cosa è pop domani Sampa è stato un prodotto pop nasce da una storia di quattro amici al bar che amavano i documentari di ricerca i documentari di nicchia e che a un certo punto per tante ragioni hanno fatto un prodotto che è diventato anche grazie all'aiuto di una pattaforma pop ma il pop di domani è la ricerca di oggi e quindi è inevitabile pensare che questi soldi si trovano anche in una tassa di scopo come quella francese che consente la ricerca attraverso una piccola parte una piccola porzione del successo dei contenuti mainstream grazie grazie Andrea credo che Maria Giovanna abbia sotto controllo i commenti che stiamo ricevendo via Facebook quindi magari possiamo dare una letta forse tu Lorenzo eccomi mi sentite controllo una parola non proprio corretta perché me ne salterò qualcuno e tenete d'occhio anche voi se perdo qualche commento interessante ma vi volevo appunto restituire una lettura dei commenti Alessandra Anzani che io ringrazio per l'incontro ma soprattutto dice che andrebbe fatta una riflessione per il teatro dei ragazzi e credo che questo sia uno dei segmenti che non è stato ancora nominato Matteo Basile scrive che la piattaforma è pensata pensata da Franceschini sia nata vecchia avendo sbagliato dal principio la tecnologia adottata e il forum dimostra che la produzione culturale tecnologica è pronta a fornire e creare nuovi format con un accento appunto sulla novità dei format da sostenere per una piattaforma che non può avere come modello Netflix e il rene pittatore suggerisce dopo l'intervento di Messina una un link che potete vedere anche voi sulla nei tre commenti della diretta Facebook dove suggerisce quello che sta accadendo in Francia e cioè un canale di France TV dedicato alla Culture Box un canale specifico quindi potete potete andare a vederlo e viene Ilaria lo riporta qui in chat e poi Valeria Nencini si chiede ma il pubblico risponderebbe quanti pagherebbero per vedere un singolo spettacolo sapendo che si paga a singolo video quindi propone la questione del pubblico che mi sembra è emersa più volte nei discorsi dei nostri relatori e che è una questione importante un pubblico pensato solamente come un consumatore un consumatore passivo ci si chiede Valeria risponderebbe e quindi questo è uno dei questi sono alcuni delle riflessioni che ci sono tra i commenti facebook invece era ancora iscritta era iscritta a parlare alla discussione con una nuova domanda credo dalla sessione di dibattito precedente Eleonora Rotolo a cui chiedo poi anche di indicare il relatore con cui che vorrebbe rispondesse alla sua alla sua domanda così può intervenire subito oppure poi apriamo noi un ultimo giro di interventi prego allora io volevo ringraziare tutti gli ultimi interventi per aver dato diciamo secondo me uno spunto propositivo più che uno spunto di boicottaggio perché tanto questi soldi ormai sono stati spesi questa piattaforma è stata fatta e quindi credo che sia importante ragionare su cosa farne ora che esiste e la domanda che volevo porre era più che una domanda era una richiesta di valutare la gestione contrattuale di questi contenuti perché appunto se su Itzart si possono inviare mail con all'interno dei contenuti come avrà gestito questa i contratti tra chi invierà dei contenuti e la piattaforma perché questo credo che sia un punto fondamentale da sviscerare prego qualcuno vuole intervenire questa è sicuramente una domanda da girare io non credo nessuno dei relatori possa avere una risposta insomma sicuramente è un tema a cui chiedere di badare questo è venuto fuori anche con con forza già in altri interventi per cui sicuramente bisognerà visto che stiamo vigilando a quanto pare noi in tanti anche vigilare su questo aspetto io mi permetto di aggiungere una cosa accodandomi anche a quello che di cui ha parlato Cristiana Ferrella che è una collega una direttrice di museo come me io credo che i musei così come i teatri abbiamo avuto testimonianze molto trasversali e ancora ringrazio tutti coloro che ci hanno portato il loro contributo a questa discussione in questo anno abbiamo tutti dimostrato di sapersi adattare di avere la capacità produttiva e di progetto per poter adeguarsi a mutate condizioni mutati contesti mutate piattaforme se così vogliamo dire quindi il messaggio che mi sembra emergere potente da questa discussione di oggi è che il sistema della produzione culturale non ha paura della Netflix della cultura assolutamente benvenga la Netflix della cultura viva la Netflix della cultura se questa però è accompagnata da un piano di produzione da un piano di possibilità che ci permettano di sfruttare questi strumenti che ci vengono date distribuzione se no come molti hanno detto è una piattaforma che nasce morta nasce senza possibilità di produrre contenuti adeguati dico soltanto che vi faccio i complimenti perché è la prima volta io ripeto e vi sarete tutti invitati poi venerdì 19 come FederCulture promuoniamo proprio un incontro fra le aziende produttrici di contenuti e i responsabili della piattaforma però voi siete i primi ad aver affrontato seriamente un argomento che è rimasto con una specie di ectoplasma quindi utilissimo l'incontro di oggi ed è una base di riflessione su cui veramente dobbiamo lavorare vediamo che succede nei prossimi giorni perché anche l'interlocuzione politica è fondamentale in questo contesto grazie no io colgo l'occasione sì una cosa la volevo aggiungere nel senso che per quanto io mi sforzi di essere positivo non ci riesco tanto perché anche il discorso che è stato fatto sulla produzione io sono d'accordissimo però appunto non capisco trovo più utile aiutare delle produzioni a fare dei prodotti che siano vendibili a Netflix ad Amazon ai canali che già ci sono cioè se io devo immaginare del danaro pubblico che viene speso io me lo immagino per aiutare le persone che fanno non per creare un altro punto di vendita e quello è il punto è come se noi come dire io se dovessi dare una mano ai piccoli produttori per esempio delle eccellenze del nostro territorio parlo parlo di una cosa proprio terra terra dei prodotti del vino per esempio piuttosto che aprire dei nuovi centri commerciali dove vendolo cercherei di aiutare le aziende che stanno cercando di migliorare la produzione e che stanno cercando di fare una sfida per portarlo all'estero questo è il discorso per questo trovo che sia sbagliato e trovo anche come dire sarebbe bellissimo dialogare con le istituzioni su queste cose però il dialogo non c'è e non è che non l'abbiamo avuto noi cioè noi siamo al massimo possiamo chiedere di dialogare ma dall'altra parte non mi sembra che ci sia stata ci sia volontà di dialogo perché come tantissime persone hanno detto se io voglio dialogare con qualcuno su qualcosa lo faccio mentre la sto facendo mentre la sto ideando addirittura non quando l'ho già fatta l'ho già presentata eccetera eccetera del resto diciamoci la verità insomma io penso che nessuno di noi qui utilizzerebbe quel nome quel logo per promuovere una cosa sua ecco cioè già da quello come dire si capisce tutto io penso che quello è il buongiorno di questo prodotto mi dispiace essere negativo e catastrofista ma io per me la propositività in questa situazione uniamoci stiamo insieme cerchiamo di di far valere quelle che sono le esigenze nostre che poi sono le esigenze di un paese perché in un paese dove la cultura viene trattata in questo modo è poi un paese come quello nel quale purtroppo siamo abituati a vivere c'è Paolo Giuliarini che vuole reintervenire se ho capito bene no c'è un intervento di Paolo Golini in chat ecco prego Paolo chiedo scusa può la domanda ah no è un 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 una una riflessione no no allora il resto conto io mi allineo ai colleghi perché devo dire insomma almeno nel mio precedere in qualsiasi occasione insomma non prendo mai le cose di di petto diciamo quindi capisco il momento che è particolarmente diciamo per tutti noi è drammatico perché anche i musei insomma hanno perso tantissimo però la metodologia che è stata in qualche modo affrontata in questa discussione è estremamente positiva perché alla fine sono venuti fuori moltissimi stimoli che secondo me possono essere pronti per essere messi sul tavolo e dico solo due che mi hanno colpito diciamo così il fatto di pensare soprattutto a dei contenuti che non siano competitivi e scimmiottino in qualche modo quelli delle diciamo reti delle piattaforme oramai troppo più potenti ma un orientamento a cercare un'originalità o un altro punto di vista di questo mondo dei musei del teatro eccetera questo perché non si tratta soprattutto di far soldi con questa con questa piattaforma ma soprattutto di far conoscere la grande capacità progettuale e sperimentale di tutto il mondo della cultura italiana dal teatro al cinema ai musei questo è venuto fuori in maniera prepotente oggi insomma diciamo così e già questo secondo me basta per dare diciamo così un plauso al vostro sforzo quindi complimenti e secondo me siamo sulla stretta giusta per scendere bene grazie forse c'è Cristiana Morella di nuovo no io semplicemente appunto in risposta capisco capisco anche la la scarsa fiducia no? in questo progetto però appunto dal momento che c'è dal momento che delle risorse davvero ingenti pubbliche e private sono state messe su questa su questa cosa io credo veramente che lo sforzo da fare sia quello di cercare di trovare una maniera di dare un senso a tutto questo ammesso che che questa maniera qualcuno sia interessato a raccoglierla perché perché non è detto perché appunto acquistando materiali pronti dalle per esempio Rai è disponibile a dare contenuti a piattaforme come questa da contenuti diciamo mainstream e quindi la produzione ha senso che vada su prodotti sperimentali io faccio un esempio uno dei dei lavori sul contemporaneo che ho amato di più quest'anno è stato il lavoro su Ettere Spalletti fatto da Alessandra Galletta un documentario bellissimo costato circa centomila euro e anni di riprese ecco con dieci milioni se ne fanno cento l'anno non è male sono due due a settimana intendo dire forse tutto sommato o si trovano anche appunto si possono sviluppare anche progetti meno costosi ma più più sperimentali forse vale la pena di provare un'interlocuzione su questo punto solo questo forse però non è l'attenzione di riferimento verso il mercato questo ma questa è un'altra discussione la dovremmo fare in altra sede mi taccio nel senso che interesse del mercato ovviamente purtroppo come sappiamo bene non è per il settore di ricerca no ma insomma appunto solo dare questo nome Netflix della cultura cercare di mirare molto in alto insomma con risorse un po' un po' esigue bene grazie Cristiana Ferrella grazie anche per per la pazienza di aver recuperato questo collegamento veramente personalmente grazie voglio anche ringraziare per Umberto Cropi per i complimenti che giro ovviamente a tutta l'organizzazione del forum dell'arte contemporanea noi siamo molto felici di avere questa opportunità perché di nuovo il forum dell'arte contemporanea si dimostra come un'occasione per potersi trovare degli spazi di discussione per poter veramente produrre qualcosa e questo qualcosa dopo questa questo intensissimo pomeriggio sarà un documento per dire e riprendo anche quello che ha scritto Paola Ugualini nella chat di Zoom trovo poco costruttivo far planare sulla testa del mondo della cultura una piazzaforma fatta e finita senza la minima interlocuzione con chi produce cultura ecco l'intento di oggi non nego è stato proprio quello non ce l'hanno chiesto ce lo chiediamo da soli e poi glielo andiamo a dire e quindi superare un po' questo gap che c'era dimostrando che ci sono anche gli strumenti e i modi per provare queste interlocuzioni e per trovare queste risposte questi pareri il focus di oggi è stato reso possibile grazie al coordinamento che è stato portato avanti da Maria Giovanna Mancini Chiara Zanini Adriana Polveroni e me ringrazio le mie colleghe per questa bellissima avventura e soprattutto Anna Daneri L'Aria Lupo e Stefano Pasquini che ci hanno supportati in ogni momento e soprattutto in questa diretta che adesso sarà comunque caricata online e resa fruibile quindi oltre questa documentazione che speriamo di poter mandare al ministero presto ci sarà anche il video report di tutto quanto è stato discusso oggi grazie ancora a tutti quelli che hanno partecipato e quelli che ci hanno ascoltato e alla prossimo appuntamento con il forum dell'arte contemporanea buona serata grazie a tutti